A un po' di italiano Signora, buongiorno, mi scusi, sono una giornalista No, non potete parlare perché noi ce ne stiamo andando e non vogliamo lasciare nessuna dichiarazione Siamo tornati alla reggia di Caverta, dove ancora restano una decina le famiglie di ex custodi e dipendenti che alloggiano senza più titolo all'interno del Parco Van Vitelliano o del Palazzo Reale Ma c'è una novità, ora anche la Corte dei Conti ha aperto un'indagine per un danno erariale che ammonterebbe addirittura 1.200.000 euro Secondo la Procura Contabile, responsabili sarebbero l'ex soprintendente dal 2009 al 2014 e tre dirigenti del Demanio che avrebbero tollerato la permanenza di questi inquilini a caroni praticamente irrisori dai 4 ai massimo 145 euro, con parcheggio incluso e accesso al parco e i consumi dell'acqua, tutto incluso Nessuno ha voglia di parlare, qui siamo davanti all'ingresso del rettorato della seconda università di Napoli proprio nel corpo di Palazzo Reale, dove si sta svolgendo una gara tra giovani aspiranti start-upper che paradossalmente potrebbero trovarsi davanti agli inquilini con la spesa Questo invece è il cosiddetto villaggio dei Liparoti, su uno dei lati del giardino Ecco uno degli altri appartamenti che a breve dovranno essere lasciati con tanto di calcio balilla e piantine all'ingresso Qui c'è anche la sede della società di Storia Patria che conserva testi e cimeli storici ed effettua attività di studi senza scopo di lucro finita anch'essa nella bufera, 460 metri quadrati al prezzo di circa 80 euro al mese Attenzione, io oserei dire che è già sproporzionato rispetto alle nostre possibilità perché siamo un ente privatistico, sosteniamo spese con il contributo dei soci che non sono molti E a difenderne l'operato infatti è lo stesso direttore della Reggia, Mauro Felicori Noi non intendiamo affatto sfrattare, secondo me è anche giusto che loro non paghino un affitto è uno di quegli enti che normalmente riceve degli incentivi addirittura Mentre gli alloggiati senza titolo hanno solo pochi mesi per sgomberare gli immobili altrimenti interverrà la forza pubblica Quando mi sono insediato erano già stati sfrattati dalla dirigente che mi ha preceduto Secondo me hanno in qualche modo pensato che sarebbe andata come era sempre andata cioè che le cose si dicono poi non si fanno Invece io personalmente ho firmato gli sfratti in pena l'iniziativa della forza pubblica quindi diciamo che entro l'estate questo problema è un problema risolto Buongiorno, ben ritrovati all'area che tira Voglio dirvi che sono felicissima di essere di nuovo a casa dopo una pausa che ho dovuto prendere il mio malgrado ma per mettere subito alla prova la mia pressione ballerina ho voluto ripartire da uno di quei temi che mi manda i matti che è la legge di casetta Sapete che ne parliamo spesso, abbiamo seguito tutte le vicende che riguardano questo monumento magnifico la Versailles italiana che però è sempre stata trattata molto male Adesso c'è un nuovo direttore Mauro Felicori, ve lo ricordate? Quello qui i sindacati hanno detto che lavora troppo, sta fino a tardi alla reggia tutti i giorni Ebbene, gli sfratti ci sono, come dice giustamente Felicori Si pensava che le cose andassero come sono sempre andate Si parla, si parla, ma poi non si combina niente E invece a questo giro, per fortuna, qualcosa sta cambiando Noi continueremo a seguirlo, questo tema Non molleremo alla reggia di Caserta le sue bellezze Per prenderci un'avvocata di buon umore Vi faccio sentire Vincenzo De Luca In versione crozza, naturalmente Che ha deciso di portare a Caserta la grande lirica Guardate Lei ha detto che uno degli obiettivi della sua regione È portare in estate la grande lirica alla reggia di Caserta Trasformandola in un'arena di Verona del Sud Arena? Eh, verona Si dà l'arena di Verona Un colosseo di serie B Un palasport senza neanche un tettuccio sulla testa Non è un palasport Nulla in confronto alla maestosità della reggia di Caserta La reggia di Caserta ci hanno girato Guerre Stellà All'arena di Verona, al massimo ci possono girare all'arena di Giletti Certo che purtroppo anche la reggia di Caserta ha i suoi problemucci Sì, in effetti abbiamo letto, no? Problemi con i lavoratori, gli abusivi Ma no, quelle sono piccolezze, Robette, ci scaglie Il problema vero è che la meraviglia del luogo è tale Che Madame Butterfly alla fine dell'opera non vorrà più suicidarsi Diretta dal maestro Pappano Io già me la immagino questa geisha giapponese Intenta ore e ore a commentare Cantando gli stupi e le fioriere della reggia Col pubblico che rumereggi dice Sta cazzo di giapponese non vuole morire Ma non credo Toccherà a batterla Toccherà a battere Madame Butterfly Parliamo di molte cose questa mattina con i nostri ospiti Alla prossima ci ha venuto Geremicca Amico e collega della stampa Ben trovato Geremicca E' arrivato in perfetto orario Devo dire il mio onore Perché dato che mi sono ripresa In anticipo Maurizio Gasparri è arrivato in anticipo Stamattina sono cose dell'altro mondo E poi ancora Gennaro Migliore Sottosegretario del PD Ben trovato Migliore E Lorella Cuccarini Che non ha bisogno di presentazioni Voglio dire però due cose su Lorella A parte che sono felice di vederti Anch'io molto Una è che è a Roma Con il suo spettacolo Rapunza Che è un successo enorme in tutta Italia Al brancaccio fino al 24 di aprile E l'altra che è qui per parlarci Come fa spesso Di 30 ore per la vita 30 ore per la vita È un grandissimo progetto Di cui Lorella è stato socio fondatore E testimonial instancabile Che come sapete Accoglie fondi Per aiutare i bambini Che hanno il tumore Ha due obiettivi di fondo Uno è garantire ai bambini Adoloscenti che hanno il tumore Le cure ai migliori Ma l'altro anche aiutare Le famiglie A stare vicino a questi bambini Anche lontano da casa Questo è il numero Di cui parleremo nel corso della puntata Molte volte Che io mi metto anche qui Come Lorella Che è il 45594 Mandando un sms O chiamando da rete fissa Questo numero Dal 4 al 20 aprile Potete dare dei fondi Per un grande progetto Che vale la pena Giusto Lorella? Sì assolutamente Sì poi insomma Proprio con te Nel corso anche Di alcune trasmissioni passate Abbiamo dato visibilità Dei progetti Che abbiamo prima presentato E poi realizzato E oggi abbiamo delle immagini Poi le vedremo più tardi Della realizzazione Di un altro progetto Ci arriviamo Perché una delle cose importanti Per chi dona da casa È sapere dove vanno a finire i soldi E come vengono utilizzati In questo caso Vi garantiamo Che vengono utilizzati bene Allora Torniamo un po' All'attualità politica Oggi va bene Valencia arriverà Alla Camera dei deputati Perché c'è l'ultimo passaggio Dalla riforma costituzionale Ha fatto un tweet Il nostro Premier Molto entusiasta Dice Giornata storica Oggi per le riforme costituzionali Ma prima a Verona Azienda Jobs Act Vinitaly Grinta Coraggio L'Italia riparte Insomma Continua ad essere ottimista Matteo Renzi Nel frattempo però Come sapete Il governo è stato investito Da questo grande scandalo Intercettazioni La guidi che si dimette Il petrolio Le accusa Di essere Preda Della lobby Dei petrolieri Però dentro questo scandalo Naturalmente è finito Come spesso accade Nel nostro paese Una vicenda molto privata Tra una donna e un uomo Federica Guidi E Gianluca Gemelli E ci siamo resi conto Ragionando su questo fatto Che spesso nella storia Delle coppie pubbliche Sono state travolte Da questo meccanismo Guardate In chiese scandali Ci sono coppie di potere Che riescono a sopravvivere A tutto Ed altre che Dalle tempeste giudiziarie Vengono travolte L'armistizio più celebre È sicuramente Quello tra Hillary E Bill Clinton Nonostante l'ecoplanetaria Di quanto avvenuto Nello studio vale Hillary sette Usare quella crepa Come piattaforma di rilancio Quanto armata Sia stata questa tregua Non lo sapremo mai Così come Più vicino a noi Delle ripercussioni Della fer Monte Carlo Sul rapporto Tra Elisabetta Tulliani E Gianfranco Fini Abbiamo solo Un breve squarcio Ho saputo che In quella casa Viveva il signor Giancarlo Tulliani Il fatto Mi ha provocato Una rabbiatura A di poco colossale Anche nell'inchiesta Assunzioni Su Clemente Sandra Mastella C'era una casa Quella in cui Lei non poteva entrare Avendo il divieto Di dimore In tutta la regione Campania Vivo una condizione Davvero drammatica In questi giorni Sono due mesi Che sono esiliata Dalla mia terra Vivo una condizione Da condannata Ancora prima Di un giudizio Ma quando A finire in piazza Il rapporto stesso Di una coppia Se il personale Prevale sul giudiziario Insomma Ricostruire in privato Quanto è stato Pubblicamente demolito È tutt'altro Che semplice È il caso Di Stefano Ricucci E Anna Falchi Divorziati dopo La condanna In primo grado Di lui E dopo la pubblicazione Su tutti i giornali Dei loro dialoghi Ed sms Messaggi Verricordato Irrilevanti Dal punto di vista penale Esattamente come I dialoghi privati Tra l'imprenditore Gianluca Gemelli E il ministro Federica Guidi Il ministro Guidi Non ha commesso Nessun tipo di reato Non ha fatto Nessun illecito Ha fatto una telefonata Che lei ha giudicato Inopportuna Lei è stata la prima A dire Lascio la carica Quelle conversazioni Proverebbero le pressioni Di Gemelli E la renderebbero Parte l'ESA Una posizione Meno grave Dal punto di vista Processuale Ma non Sul piano personale Allora Prima di commentare Con i nostri ospiti Naturalmente sapete Che questa vicenda Ha preso una Rilevanza politica Molto grande Perché Renzi Ha parlato di intercettazioni Ha detto Che voleva occuparsene In un primo momento Sembrava Vodesse rimettere in mano La legge Le intercettazioni Poi in realtà Ieri al TG5 Ha detto No Non ci muoveremo Però Dice il prevedo Io credo Che i pettegolezzi E le vaccende private Non vadano Messi sui giornali Sentiamo Che ha detto Il TG5 Ieri sera Matteo Renzi E poi sentiamo Il parere degli ospiti Il governo Non ha intenzione Di mettere mano Alla riforma Delle intercettazioni Ci sono molti magistrati Che sono molto seri Nell'utilizzo Delle intercettazioni Chiariamoci subito Le intercettazioni Servono Certo che servono Per scoprire i colpevoli Tutte le vicende Familiari Tutti i pettegolezzi Invece sarebbe meglio Non vederli Sui giornali Molti magistrati Non passano Queste informazioni Spero Che ci sia Buon senso E responsabilità Da parte di tutti Allora Voglio sentire subito Gasparri è migliore Su questo tema Che ne pensate Una posizione di buon senso Quella di Renzi Perché insomma Molti hanno gridato Al Bavaglio Naturalmente Bisogna fare Una riforma Delle intercettazioni Noi ci abbiamo provato Non ci siamo riusciti Perché La sinistra Si è sempre opposta Seguendo quello che dicevano Alcuni settori politicizzati Della magistratura Mi ricordo che una volta Addirittura anni fa In Groia Quando era ancora magistrato Fece addirittura Un instant book Un libro Ci fu insomma Una polemica accesa Che ci siano degli eccessi È un dato di fatto Nessuno dice Che si debbano abolire Le intercettazioni Poi c'è un problema Anche delle pubblicazioni Che è una questione a parte Ieri Davigo Se l'è scavata Dicendo Il nuovo presidente Dell'ANM Magistrato Pier Camillo Davido È diventato Il nuovo presidente Della situazione nazionale Magistrati Questa era la notizia E adesso C'è la legge Sulla diffamazione Dopodiché Poi se dopo Mi dà 30 secondi C'è una vicenda mia personale Poi vediamo come funzionano I giornali Perché sono molto squilibrati No ma io ti do con piacere Perché tanto che Caspari è stato Completamente assolto Da un accusato Di cui abbiamo parlato Anche qui Di essere appropriato I 600 mila euro Del gruppo del PDL E ha avuto una soluzione piena Perché il fatto non sussista Io penso sia sempre bene Dirle queste cose Non possiamo parlare Soltanto quando qualcuno Viene inquisito O accusato Ma anche quando viene assolto Quindi sono contenta Che lei mi parli Ma io sono Come dire Contento della soluzione Però per esempio Ha dato la notizia A suo tempo Caspari rischia il processo L'altro giorno Geremica Poco fa Diciamo Mi ha dato notizie L'avere letto oggi Su un altro giornale Il giornale sul cui scrive Geremica Che immagino legga Lui non si era accorto Della notizia Perché la stampa La notizia della soluzione L'ha data in una breve di otto righe No perché poi funziona Così Mi dia qua Che le facciamo vedere Alle telecamere La notizia dell'acusa Comunque è un classico Però Caspari Non è nel primo Nell'ultimo Che scrive sulla stampa Immagino lo legga anche Quindi io che sono giornista professionista Dal lontano 85 Dico che Ha ragione Davigo Però poi i giornali Come sono fatti Detto questo Concludo sul punto Comunque Geremica Si era accorto Che lei è stato assolto Ma si era accorto Su un giornale E' rimasto sorpreso Spero no Non dovresti sorprenderti Perché io sono Una persona per bene Perché lo facevi colpevole Presunzione di colpevole Adesso sono Peraltro nell'intervista Rivela una cosa Nell'intervista di Repubblica Rivela una cosa interessante Il magistrato Le avrebbe detto A un certo punto Se non era un politico Nella sentenza Di Bia Giudizio Ha detto Siccome il personaggio pubblico E' meglio fare il processo Ma questo in qualche modo Come dire Diciamo E' tra gli oneri Che pendo Infatti non ho polemizzato Con nessuno Infatti io sono stato In silenzio due anni E devo dire anche Nel rispetto generale Tornando a Renzi Secondo me Lui aveva detto Riformiamo le intercettazioni Domenica su Repubblica Esce un sondaggio Che dice In caso di ballottaggio Con l'Italico Grillini PD Vincono i Grillini Allora ha un po' Attenuato la linea Però che una riforma Debba essere fatta Ci sono troppi abusi Quelli a strascico Soprattutto Io intercetto Lui che parla con lui Poi lui parla con un altro Noi abbiamo letto Sui giornali Fatti privati Di mezza Italia Che non avevano Alcuna attinenza Con l'indaglio Quindi occorre Mettere mano Allora sentiamo Se la giustizia Gennaro Migliore Anche perché La visione di Gaspari Che la marcia in nero Sia dovuta A un problema Elettorale Allora Non è dovuta A nessun tipo Di problema elettorale Anche perché Non c'è stata La marcia indietro La disciplina Sulle intercettazioni È contenuta In questo momento Nel provvedimento Che riguarda La riforma Compressiva Del processo penale E che cosa riguarda Certamente Non modifica La disciplina Delle intercettazioni Come strumento Di indagine Ma in qualche modo Diciamo Va a mettere A uniformare Quelli che sono I comportamenti Già di alcune procure Per esempio Roma Compignatone Torino Napoli Già hanno dato Disposizioni Di non annotare E quindi La difesa Può sempre andare Ad ascoltare Gli audio E quindi Non è limitata In nessuna Delle sue parti Il diritto di difesa Però Di non annotare Quindi non circolano carte Cose che sono Immediatamente Irrilevanti Sul piano processuale Perché il punto è Quale è Diciamo così La rilevanza Di un fatto privato Nessuna Siccome già accade E sono Insigni procuratori Che fanno Grandissime inchieste Voglio dire Sono anche Diciamo così Tra quelli più stimati Rispetto all'ottenimento Dei risultati Nel perseguire Reati E' chiaro Che c'è bisogno Di avere Un elemento Che possa In qualche modo Rendere più omogenea Questa condotta E' una questione Di Diciamo Organizzazione Dei uffici Mi potrei Permettere di dire Cioè non si tratta In nessun caso Di modificare La disciplina Che riguarda Le intercettazioni Anche perché In questo momento Le intercettazioni Vengono utilizzate Anche per prevenire I reati Per questioni serissime Gravissime Come sono Ovviamente L'associazione mafiosa E piuttosto Voglio sentire un attimo Sia Federico Che Lorella Su questo tema E cioè Lui dice giustamente Nessuna rilevanza penale Molte che deve telefonare Tra la Guidi E il suo fidanzato Compagno Non so bene più cos'è Perché in queste ultime settimane Siamo passati All'amico Al quasi marito A Bo Non lo so Ma è il padre del figlio È il padre del figlio Quello è sicuro L'unica certezza Che è il padre del figlio Ebbene però E' vero che non hanno Rilevanza penale Però ci hanno dato Uno spaccato Su un ministro Che fin dai primi tempi Si diceva Avesse un conflitto di interessi Legato alla sua azienda Alla Ducati Energia All'Enel Ma in realtà Questo era un po' imprevedibile Quello che legava il suo compagno Soprattutto viene fuori Anche la fragilità Di questo ministro Che forse è esattamente Il punto Su cui lei decide Rapidissimamente Di dimettersi Quindi Irrilevanti davvero? Mi chiedo? Intanto sono due questioni diverse Diciamo La figura della Guidi E come si è comportata E' quel che è emerso Diciamo Attorno anche Diciamo Alla sua capacità Di valutazione Di quello che le accadeva intorno E altra cosa E' la rilevanza penale Delle intercettazioni Io non credo Che queste intercettazioni Possano essere catalogate Sotto la voce Diciamo Sono fatti di famiglia Cioè sono irrilevanti penalmente Perché E' così impastato Il rapporto tra i due Diciamo Di Tra virgoletti affari Tanto che lei stessa Se ne lamenta sempre Se ne lamenta Se ne utilizzi Io sto parlando di questo Io sto parlando di quando Il giudice ritiene Che siano irrilevanti Non quando lo ritengo io Gasparri o Geremicca Quindi Se c'è una disciplina Che dice Cioè Pignatone Quando dice Non annotate le cose Che sono immediatamente E' lui che lo decide Cioè non è che adesso Stiamo parlando del caso Guidi Stiamo parlando del caso Guidi Io però stavo rispettendo E' già una domanda No 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 figurati Per dire Insomma Parlava anche Fini prima Al rovescio Diciamo La vicenda Tulliani-Fini Era una vicenda Come dire Di carattere familiare Però come dire Aveva dei risvolti penali Molto probabilmente Allora che cosa si fa Ci si ferma Di fronte a una cosa così Io penso che naturalmente Molto E' affidato Sarebbe affidato Come dire Al buonsenso E alla correttezza professionale Dei magistrati E anche E anche di noi giornalisti Quanto alla Guidi A me Diciamo Col senno di poi E' a testimonianza Di quanto Come dire La faziosità politica A volte come dire Annebbi anche La capacità di analisi E di Esprimere giudizi Insomma io mi ricordo Che quando fu nominata La Guidi Le obiezioni che vennero Fatti alla sua nomina Era che era un regalo A Berlusconi Era come dire L'antefatto Di quel Lo ricordo bene Di quel Di quel benedetto Diciamo Fatto del Nazareno Che poi è finito Come è finito Eccetera eccetera E come dire La sua nomina Venne utilizzata Come elemento di Polemica e battaglia politica Contro Renzi Nessuno si pose Nessuno si pose Il problema Di eventuali Conflitti di interessi Che potevano accompagnare Una signora che è cresciuta Nel mondo Se ha avuto anche In carichi importanti Conflitti industriale Ha un'azienda di famiglia Che comunque fa fare con lei Che è una grande azienda Naturalmente non c'è nessun reato Ha un'azienda di famiglia Eccetera I problemi possono cominciare Quando va al governo Per occuparsi precisamente Delle stesse cose di prima Naturalmente Nessuno ha posto Questo problema Perché era più semplice Porre la polemica politica Allora Questo è Renzi Che vuole bene a Berlusconi Voglio sentire un attimo L'orella Una questione che Anche un po' come dire Femmina Donna mi interessa No? Perché Noi diciamo sempre Che le donne Devono poter Avere il potere Perché è una cosa Anche ipocrita No? Dire che le donne Non possono toccare il potere Donne e potere È un binomio Che può esistere In questo caso Secondo me C'è un grande colpo No? Alla credibilità Delle donne al potere In questa storia Perché c'è la fragilità Di una donna Che effettivamente Non è stata in grado Di essere a capo Di un ministero Che fra l'altro Insomma è uno dei ministeri Più importanti Che gestisce Una cifra Inimmaginabile Di denaro No? Quindi è chiaro Che evidentemente Non ha avuto la fermezza E non ha avuto La forza Di poter essere a capo Di un ministero così Ma credo che lei Stessa per prima Insomma Se ha deciso Di dimettersi In sole tre ore Evidentemente Aveva veramente Superato un po' Il vaso Era traboccato Per cui non ne poteva più Questo non significa niente Di donne poi Invece che sono capaci Di gestire anche Ruoli così rilevanti Ce ne sono Adesso speriamo Insomma che il prossimo ministro Io non sono per le quote rosa E quindi Insomma non è Austico che possa essere Nuovamente una donna Ma insomma soprattutto Sono sicura Che ci siano tante donne In grado di poter gestire Anche un ministero Così importante Però insomma Non esprimo giudizi Su quello che è L'aspetto privato Perché credo che Stiamo parlando Di una donna Già molto Provata Allora È arrivata un'agenzia Migliore Di Luigi Di Maio Che dice Io non mi fido Di Matteo Renzi Ha fatto un'intervista Al GR1 Perché aver dichiarato Che il problema Di Trivellopoli Sono intercettazioni Vergognose E come dire Ci sono le rapine Nelle case Aboliamo le case Ma questa mi sembra Una dichiarazione In linea Con Diciamo L'incapacità Anche di cogliere I problemi Che spesso caratterizza Luigi Di Maio E devo dire Che il punto Sul quale Noi abbiamo Teso a Riconfermare Qual è l'atteggiamento Del governo E che noi chiediamo Che la magistratura Indaghi Persegua E conduca Anche in carcere I responsabili Per quanto mi riguarda Il problema Delle intercettazioni Lo ripeto È una cosa Che non esiste Dal punto di vista Della modifica Della disciplina E tutta una montatura Del Movimento 5 Stelle Noi stiamo Chiedendo E questo ovviamente È il compito Della magistratura Che si vadano A colpire i colpevoli Perché il punto È che c'è stata Una stagione Nella quale Si invocavano I legittimi impedimenti Le realtà Che diciamo così Si opponevano Anche allo svolgimento Dei processi Noi invece Chiediamo Che si facciano Più processi Più rapidamente Però è esattamente Questo forse il punto Che su questa storia Di Renzi Anche Renzi Che parla di potenza Si è detto Renzi fa Berlusconi Così no? Ma il contrario Una similitudine Fra i due approcci Che dici Tu lo sai Che io non sono D'accordo Dall'inizio Diciamo È un po' La croce Che hanno messo Addosso al nostro Presidente del Consiglio Di essere come Berlusconi Naturalmente È come Berlusconi Per quanto riguarda Per esempio Non lo è perché Non è all'autizia La comunicazione Ma non è una roba Che ormai Possiamo restringere Diciamo provincialmente A Berlusconi E Renzi È un modo Di comunicare Dei leader Ormai diciamo Su scala planetaria Insomma Bisogna farsene Una ragione Insomma Anche in Italia Non c'è più Quel meccanismo Di formazione Delle decisioni Che esisteva ancora 20 anni fa Ma il muso duro Contro i giudici È una buona idea Renzi se lo può permettere Tu di Berlusconi Perché ha un passato Meno ingombrante Alle spalle Come la vedi Naturalmente diciamo Lui gode A differenza di quanto Accadeva per Berlusconi Come si è una prova Contrari Un pregiudizio Di innocenza Quindi può dire Alcune cose Senza che l'obiezione Sia Stai parlando Per te Dopo che anche lì Ci sono piani e piani Perché un piano È la polemica Sulle ferie Che ha tanto Offeso i magistrati Per esempio E un altro piano È un eventuale Intervento Diciamo Sulle intercettazioni L'intervento È smentito Ma secondo me Già accreditare L'ipotesi Di un intervento Vuol dire Essere vittime Diciamo Di quel parallelismo Che io non condivido Cioè che Renzi E Berlusconi Sono la stessa cosa Questa è una cosa Che ha indotto Ha indotto In errore Queste persone Oggi per esempio Su vari giornali Compreso la stampa C'è il parallelo Cosa dice la politica Cosa dice i magistrati Il potere legislativo Il potere legislativo Non è che le regole Su alcune questioni Le fanno i giudici I giudici Deve che devono applicare Le leggi Che fa il Parlamento Che espressione Della democrazia Invece noi mettiamo Sullo stesso piano Tant'è che hanno Di fatto Avuto un potere di vetro Io ci dato prima Il caso In grove magistrato Che poi ha fatto un partito Ma la gente Non l'ha votato Dico io per fortuna Però quindi Loro possono Prima decidere Che cosa dire Per condizionare Il potere esecutivo Poi chi vuole L'ha fatto di vetro Con maggiore successo Per molti anni Vabbè ci sono pure Quelli come Davigo Per esempio Che non l'ha mai Capito Però mentre io Non posso mai diventare Procuratore della Repubblica Questi possono poi Diventare ministri Dopo avere anche Avuto il potere E ho capito Però poi Migliore arrivo un attimo Però devo fare una cosa Devo far vedere Una cosa a Gasparri Perché Gasparri Quando viene qua Dovete sapere Tuita moltissimo Allora io per punizione Adesso vi faccio vedere Cosa ha fatto L'altro giorno Zoro Il suo programma Ha fatto una lezione Sui social Prendendo Il suo programma L'ho fatto Alla offenza Del giornalismo Ma sa tutto Gasparri che angoscia Va bene Vediamo Anche adesso Stava twittando Primo dicembre 2015 Gasparri scrive All'Italia potrebbe essere Stata lasciata in pace Perché è considerata Un'area di passaggio E mi preoccupa molto L'area grigia E' vero che Giorgia Meloni È figlia della storia Le chiesimo Le chiesimo la disponibilità Staff Gasparri Gasparri La cosa che a scuola Si studia Ripetete tutti quanti Io chi Tu chi Egli chi è Non rispondete A sta domanda Non è una domanda Noi chiesimo Appunto Poi ecclesiaste Perché questo fa eccezione E si chiorno E si chiorno L'esagerato livore Di Angelo Alfano Verso Forza Italia E' indice Di nervisusmo Cerca una rista Che non avrà Martedì Ora a meno da ridere Spero che Matteralla Se sarà eletto Potrà sorprendere Chi lo ritiene Troppo ostile Accentessa Che festerie Tocca ascoltare Facendo zapping In ufficio A Corà L'Islam Ha dichiarato Guerra all'Occidente Attentatoti Sono finti europei Là si parla Di eroismo Dice Attentatoti Sono gli attentatori Di Toti Abbiamo postato in aula Alla Camera Questo messaggio A Ban Ki-moon Marò liberi subito E hanno postato Questo messaggio Italian Marines Free Andre Perini dice Che tradotto viene Marò italiani gratis Casomai si dice Free Italian Marines Marò italiani gratis Non è male Però bisogna dire Di scolta Che Twitter E' l'unico social Su cui non si può Correggere Cioè si può Correggere su Instagram Si può correggere Su Facebook Purtroppo Su Twitter Deve passare a Instagram No forse anche I miei figli occhiali Perché a volte Magari Scappa Il 90% sono dei refusi Attentatoti Invece che attentatori Impiccate Mi ha scritto Attentatori Mentre il famoso chiesimo Era dello staff L'abbiamo Lo dicemmo Lo dicemmo Non chiediamo Che fine abbia fatto No Era la persona Smesso volontariamente Poi lui Conosce anche Ah guardate Che ha fatto Carli per Gasparri Guardi Guardi Gasparri Il nostro grafico Cosa ha fatto per lei? Chiedimi Se sono felice Chiedimi Chiedimi Se sono felice Chiedimi Se sono felice Sì Mi sai di sì Allora Vi porto a Via dei Giubbonari Di sede storica Storicissima Del PC Sono stati Credo A Via dei Giubbonari Mi aiuterà migliore C'è stato In Grao Ma migliore è giovane Ma che c'è Però è di sinistra No no Perché Sai che hanno successo Adesso le faccio A Via dei Giubbonari C'è tuttora Questa è una cosa importante Un grande Una grande presenza Un grande attivismo Infatti La cosa che voglio dirle io A me è che la vogliono Sgomberare Questa grande presenza Tronca Decidono di sgomberare Il PD Guardate C'era una volta La storica sede Del Partito Comunista In Via delle Botteghe Oscure Vedete È questa Non è più Del Partito Comunista È stata venduta All'ABI L'Associazione Bancaria Italiana Ma c'è un altro luogo Simbolo Della sinistra italiana Che rischia di scomparire Ed è la sede Del PD In Via dei Giubbonari Il Tar Le ha dato Lo sfratto Sfrattano no? Meno male no? È normale Se non paga l'affitto Lo sfratano La notizia dello sgombero Era arrivata dal commissario Tronca A dicembre dopo lo scandalo a Fittopoli Nella sezione Che è un pezzo di storia del PD Fino al 2008 Il canone era di 100 euro al mese Poi è salito a 1.200 Ma i democratici Hanno continuato a versarne 100 Accumulando un debito Di quasi 170.000 euro Non è questo il problema Noi Continuiamo Vogliamo pagare Sia l'arretrato Che questo Per cortesia Questo è il mantra Vogliamo pagare Vogliamo pagare Noi comunque i soldi Ce li avevamo Fatto sta che al momento Al comune Proprietario dell'immobile Sono stati dati come a conto 25.000 euro Che per i mancanti Si procede ad una colletta Tra militanti Di andati 25.000 E me ne sembrano pochi Ci sono questi soldi C'è anche un cartello Con una colletta per farli Sottoscrizione Qual è il problema? Ma la sentenza del Tar Sottolinea Urso Non è arrivata tanto per i debiti Ma perché dopo 70 anni La sede non risulta ancora Titolare di alcun atto di concessione In altre parole Sarebbero abusivi Finita la concessione Di un anno del 46 Dal 47 Noi non potevamo Più stare qua Per qualcuno Le colpe sono da imputare Al comune Che fino ad oggi Si sarebbe disinteressato Della faccenda Qui ci stanno Le responsabilità Da parte degli amministratori Peralti la decisione A un mandante politico Oggi ci c'era Il loteva a me A quelli come me Ha capito Che abbiamo fatto le lotte Ma io ero Sente un po' arrottamato Uno di quelli Che vogliono lottare Eh certo Io sono uno di quelli No Pure sta sede È rottamata Capito Alla fine incontriamo Anche Sabrina Alfonsi Del PD E presidente del primo municipio Quello in cui si trova Per evitare Qualunque allusione O conflitto di interessi Io l'unica pratica Di cui non mi sono proprio occupata È quella del PD E lei lo saprà Presidente del primo municipio Siamo nel primo municipio Vuole che io le dica Che lo so? Vuole che io le dica Una bugia? Vuole che le dica Che ho visto il contratto? Non glielo dirò mai Perché non è vero Se stava meglio Quando se stava peggio E viva il grande Berlinguer Ecco Quello è il grande Berlinguer Avanti nuovo Allora Discosso Allora migliore Una rottomazione dolorosa questa No Premesso che Tronca Fa bene A scoperchiare Tutta la vicenda Degli immobili pubblici Affittati a 4 euro Anche perché Questo è quello che si vede Ma poi ci sono Decine di persone Anche note Che vivono in appartamenti A 16-15 euro E lui fa bene Fa benissimo Fa benissimo A intervenire Perché è evidente Che questo È un andazzo Che andava interrotto Secondo me anche da prima Io ho visto delle carte Indecenti Che sul centro storico Non si possono guardare Rispetto a questa vicenda Perché ci vogliamo pagare Vogliamo pagare Ma qual è il punto Rispetto a questa vicenda Invece è in corso Una Diciamo Una contesa giudiziaria Anche perché Io adesso Non conosco la vicenda Però se è vero Che l'amministrazione Non ha mai regolarizzato Il titolo di presenza In quella sede Ebbè forse la responsabilità Sta anche da quell'altra parte Siccome spesso Diciamo così E sono sicuro Che se c'è la disponibilità A saldare il pregresso Questo è sicuro Che lo fanno Perché c'è una tale C'è un tale attaccamento Un'affezione A quella sede Che è veramente precedente A qualsiasi altra sede Prima del PC Adesso del Partito Democratico Io penso che lo farà Però bisogna rispettare Quelle che sono Le procedure giudiziarie Il PD potrebbe farsene carico In quanto Partito Nazionale Tesoriere Bonifazi Per il motivo Di tenere un simbolo Io credo Io credo Che ci sia Innanzitutto La disponibilità Dei militanti Del primo municipio Che sono al circolo Il più giubonato Posso Allora Quella storia Di la sede Nasce Era una sede Del Partito Fascista Ho letto anche questo Sui giornali Quindi evidentemente Nel clima Parlavano del 46 Del dopo guerra Fu acquisita Diciamo A partito comunista Dopodiché Il primo anno C'è una guerra civile Eccetera Passi Poi dopo Sono passati 60 anni Un affitto va pagato Sennò come ha detto quel signore Abbiamo destinato la democrazia Allora uno non paga l'affitto Non è che quello è un merito E allora Siccome l'affitto è 1200 euro al mese Ho letto Ed è giustificato Perché è una zona Di centro storico Commerciale Vicino al Campo dei Fiori Il problema è il pregresso C'è un arretrato di 170 mila euro Io credo Quando dice la signora Che dobbiamo fare Quando uno rateizza Uno può anche rateizzare Però ci vuole una data Quindi dovrebbero fare un accordo Dice entro due anni Paghiamo questa roba Raccolgano i soldi Dopodiché io pure Gli do un contributo Anche io Che non sono del PD Però devono pagare 170 mila È bello che Gasparri Vuol dare un contributo Alla serie di via dei giornali Se loro raggiungono 169 mila euro Gli ultimi mille Gli li do io Devono venire però Dimostrando che hanno raccolto Gli altri 169 mila euro Io e Geremica non diamo un euro Io e Geremica non diamo un euro Però io posso raccogliere i fondi Per conto del PD Se volete Geremica Dimmi una cosa Queste amministrative Sono molto pericolose Per Matteo Renzi Adesso per esempio C'è Passera Che a Milano Dice voglio Appoggiare Parisi Perché non voglio Che vi incasala Insomma C'è la possibilità Che nelle grandi città Si prenda un bagno pazzesco? Io direi di sì Insomma Poi naturalmente Ci sono le città Che hanno un valore Simbolico Più importante Di altre Io penso Diciamo che Partiamo dal caso Roma Il caso Roma È una tragedia Per il centrodestra Ma rischia di non vincere Il PD È Roma Ed è amministrava Il PD Quindi sarebbe Come dire Una città persa Naturalmente Rispetto a Roma C'è Un'ampia serie Di motivazioni E di giustificazioni Che Renzi Si può mettere in campo A giustificare La sconfitta di Roma Lo stesso discorso Secondo me Vale per Napoli Il PD Abbastanza Diciamo Logorato Inconsistente L'ultimo L'ultimo incidente È quello Della candidatura Di Bassolino Eccetera Eccetera È un'altra città Che non verrà Riconquistata Secondo me Il punto vero Cominciano a diventare Torino e Milano Che Torino e Milano Che sono le due città Nelle quali Il partito democratico Sembrava essere messo meglio E Cominciano Come dire A mostrare Le complicazioni Intanto va valutato Diciamo Il passo di passera Mi scusi Per il gioco di parole Che porterà avanti Parisi Nel confronto Con Sala E poi c'è il grande Interrogativo Di Torino Torino le cose Sembrano essere messe In maniera tale Che se Fassino Non riuscisse a passare Al primo turno Come tutti i sondaggi Indicano Si aprono dei rischi Molto grossi Nel ballottaggio Sui ballottaggi Diciamo Con la presenza Di un 5 stelle Di un esponente Invece degli schieramenti Classici Io vorrei dire una cosa Cioè io credo che Difficilmente Si ripeterà Quello che è successo Per Parma Dove A dispetto Il centrodestra Andrò a votare Per Pizzarotti Che vinse le elezioni Io credo che adesso Diciamo Centrodestra e centrosinistra Si faranno un po' i conti Diciamo Su questi giochi A dispetto Cioè non Come dire Rischiano di dare Nuova energia Ad un movimento Che è già molto alto In più Prendiamo Roma Insomma Se Roma è Quel comitato D'affari Molto diffuso Ma proprio radicato Dalle aziende Municipalizzate Diciamo Agli apparati Comunali Diciamo Questo sistema di potere Io ho la sensazione Se al ballottaggio Andasse la Raggi E uno qualunque Degli esponenti Del sistema Dei partiti Beh io credo Quello schieramento Rimasto fuori Piuttosto che andare Sulla Raggi Per una certa Come di capacità Di riconoscimento Come dire Epidermico Andrebbero a votare Diciamo Di autoconservazione Dici tu Per la conservazione Io diciamo Questo credo E non so nemmeno Se è un male Per il sistema Dei partiti Voglio sentire un attimo Dorella da cittadina Su questo Adesso effettivamente Il livello amministrativo Forse è quello Che più mostra La sofferenza Sì a me piacerebbe Sentire un po' Più di programmi Perché finora Si fa sempre un po' Come dire Di cronaca rosa Anche sui candidati E si parla poco E si parla poco Di progetti Io vorrei sempre Un po' Superare Quelli che sono Le logiche Degli schieramenti Penso che soprattutto Quando si parla Di un'amministrazione locale Contino veramente Moltissimo I programmi Cioè Roma Ha bisogno Di risposte Su come gestire Di tutto Ha bisogno Roma Ha bisogno Di risposte Su come gestire Tutte le problematiche A partire dalle strade Dall'Atac Per conquistare Il tuo voto a Roma Cosa dovrebbero dirti Faccio Due punti Beh Darmi delle soluzioni concrete Io per esempio Devo dire che Fra tutte le interviste Che mi è capitato Di sentire Adesso Non perché uno Dice una donna Ma Virginia Laggi Mi sembra comunque Una donna Una donna in gamba Che ha le idee Molto chiare Poi io Non sarò Una cittadina Che vota Perché purtroppo Sono vicinissima a Roma Ma faccio parte Del comune di Formello Quindi non potrò Partecipare Alle amministrative Però Però ecco Se devo esprimere Per esempio Con giudizio Su quello che Finora Ho sembrato Gasparri Viene Alcio Marchini Stamattina Qui a Versoluna Che devo dirgli qualcosa Li chiederei No guardi Abbiamo avuto uno scambio Volete convertire tutti lui Volete che faccia un passo indietro Posso riferire qualcosa Io mi auguro Che alla fine Si arrivi a un unico candidato Perché vede Te racconto un aneddoto L'altro giorno Ho incontrato Giacchetti Alla mattina Alle otto e un quarto Stavo entrando Alla camera E lui stava lì E lui mi fa A me Ci conosciamo ovviamente Certo Ci vede il 40% Lo dico in romanesco Che state a fare Perché faceva la somma Dei vari candidati Alternativi alla sinistra Quindi che sono La Meloni Bertolaso Marchini Storace E gli ho detto Te stiamo a fare un favore Perché Da un lato Tu potresti avere Più chance di ballottaggio E poi ti potremmo fare un danno Perché se diventi sindaco Mica lo so Ora io credo Che ci sia ancora un marge Noi insistiamo Che questa convergenza Si possa verificare Su Bertolaso Perché Quando fu individuato D'accordo Da Berlusconi Salvini E La Meloni Dopo che La Meloni Aveva rinunciato Dopo che La Meloni Aveva messo il veto Su Marchini Dopo che insomma Si erano consumate Molte cose E' uno che tecnicamente In questa emergenza Della città Appare Temperato Io ne resto Convinto Marchini Dai sondaggi Non sembra Non sembra molto In partita E l'isera Abbiamo avuto Uno scambio Di dichiarazioni pubbliche In cui dicevo Fai come Passera Lui mi ha risposto Malamente Malamente Dicendo che il centrodestra Il centrodestra Sono finiti Io credo che lui Non ce la farà Diventare sindaco di Roma E mi pare che L'esempio di Passera Dove a Milano Intorno a un uomo Non dei partiti Perché Stefano Parisi Candidato a Milano Una studenziaria di Salvini Che sta parlando Dall'Aquila E dice No, no, no Berto Laso No Non è il mio candidato Ma sia molto sicuro Del suo pensiero Dopodiché Io mi auguro Che ci sia spazio Nei prossimi giorni Per non sprecare Un 40% Che poi non è che si somma Non è che se tu Anche prima Certo Non è la somma Gebbica Naturalmente Non è detto Che tutti quelli Che avrebbero votato Passera Potevano Parisi Però semplifica Migliore il quadro Pubblicità Torniamo subito Devo parlarvi Della Moby Prince A 25 anni Da quella tremenda tragedia Ancora la verità È lontana Tra pochissimo Non lo spavamo Che loro erano i navi Perché dovevano fare La sorpresa Dopo partire il sabato Invece l'anticipato Sono partiti Il mercoledì Quel mercoledì Era il 10 La fine del 1991 Era il giorno Della più grande tragedia Del mare In tempo di pace Il saghetto Moby Prince Parte da Livorno E punta la prua Verso Olbia Porta me il giorno Porta me il giorno A due miglia Dal porto toscano Moby Prince Si scontra Con la petroliera Agip Abruzzo Scopia un incendio I soccorsi Non partono subito Muoiono in 140 Anche il fratello E la cognata Di Maria Furcas 33 e 29 anni 25 anni dopo Senza verità e giustizia Questo fa capire Che il nostro obiettivo È avere verità E avere giustizia Della morte Dei nostri cari E andremo avanti sempre L'inchiesta Non ha chiedito Quel che è successo Tutto dice Da sentenza di archiviazione Del 2010 E da imputare A un banco di nebbia E all'imprudenza Del comandante del traghetto Ugo Chessa Una tesi Confezionata Ad arte Perché in questa maniera E chiaramente Sono tutti tranquilli Depistaggi Silenzio Piste trascurate Ed errori tecnici Oggi sembrano chiari Ma verificarli Sarà compito Della commissione parlamentare Di inchiesta Al lavoro Già da 4 mesi E si sono lasciate Delle piste inesplorate Quelle piste Noi le vogliamo esplorare tutte Ci sono anche testimonianze Che stiamo ascoltando Che in quella fase Non sono state ascoltate In nome del popolo italiano L'incidente è avvenuto Sarebbe avvenuto A causa O con causa Di un banco di nebbia Che improvvisamente Si era levato 25 anni dopo Vengono fuori Tanti elementi Che portano a credere Che non sia stato accertato Tutto quello che è avvenuto I documenti tecnici Raccontano Una storia Che è completamente diversa In termini di posizione Di dove è avvenuta La collisione E sulla presenza In rada Quella sera Di diverse navi Tra queste Vale la pena Forse solo di ricordare Queste sette navi Militarizzate americane Teresa è una nave inesistente Il comandante Parla con un nome in codice Per far sapere A Ship One Un'altra nave misteriosa Che si allontana Perché va via in fretta Poi i soccorsi I 30 dell'Agi Pabruzzo Vengono salvati Sul Moby Prince C'è un solo superstite Il mozzo Perché non hanno soccorsi Hanno soccorso la nave L'Agi Pabruzzo Non hanno soccorso La nave Paseggeri Allora Ieri erano 25 anni Da quel 10 aprile del 91 Dal momento in cui Ci fu questo scontro terribile Morirono 140 persone Dentro la Moby Prince Come spesso purtroppo Accade nel nostro paese La verità è ancora lontana Quattro mesi fa È stata costituita Una commissione di inchiesta Ma ancora La vicenda È molto difficile Da decifrare Eppure c'è gente La cui vita è stata Distrutta Da quella tragedia Con me qui C'è Lucchino Chessa Che è un medico Un professore iniziale di Cagliari Ma soprattutto È il figlio Di Ugo Chessa Che era il comandante Del traghetto Moby Prince E a bordo Di quella nave Con il papà Di Lucchino Chessa C'era anche sua madre Quindi Voi avete avuto Un lutto spaventoso Perché entrambi I vostri genitori Sono morti In quella tragedia Lei ha fondato Un'associazione Che si chiama 10 aprile Proprio con l'obiettivo Di arrivare Alla verità La prima domanda Che le faccio è Come è possibile Che dopo 25 anni Ancora non si riesce A mettere un punto fermo Secondo lei Su una vicenda come questa No Buongiorno innanzitutto Buongiorno Purtroppo il punto fermo È stato omesso Dalle sentenze Dalle sentenze Che hanno banalizzato Il tutto Come un incidente Un incidente A causa della nebbia A causa della velocità Del traghetto A causa della distrazione Della superficialità Del comando Del traghetto Per cui Purtroppo il punto fermo È stato omesso Allora È stato omesso Nel 96 È stato omesso Successivamente Alla chiusura Delle nuove indagini Che noi abbiamo richiesto Nel 2010 Come si fa oggi A modificare questo punto fermo? Si sta lavorando su questo Abbiamo portato avanti Tutto una serie di studi Di un lavoro tecnico Di rilaborazione Delle carte processuali Senza dover fare cose particolari Rivedere tutte le carte processuali E da lì si è visto Tutto una serie di cose Che non andavano Completamente diverse Rispetto a quello Che è stato descritto Cioè voi volete Che si riapra il processo Se capisco bene Chiaro che quello Sarebbe il massimo Però intanto La cosa buona Che si è partita Con una commissione d'inchiesta Una commissione parlamentare D'inchiesta Che sta cominciando a lavorare E dando anche dei frutti Luchino Quanti anni aveva Quando è successa? Trent'anni Trenta E lei ha un fratello? Sì Un fratello Angelo Che ne ha sei meno di me Voi avete veramente Tutta la vostra vita Provato a Arrivare ad una verità No? Pensate Sono 25 anni Un quarto di secolo Che stiamo dietro Questa vicenda Anche perché Dobbiamo tutelare Intanto Il nome di nostro padre Che era il comandante Il traghetto Ma diventa anche Una questione Di atto di democrazia Per un paese Che secondo me Deve arrivare in fondo Su certe storie Non è possibile Ecco Questo è un tema Molto importante Ne voglio parlare Anche con Filippo Nogarin Sindaco di Livorno Lo ringrazio Di essere venuto Qui oggi A parlare Di questa tragedia Secondo me Ha molta ragione Luchino Chessa Quando dice È abbastanza incredibile Che in Italia Non si riesce mai Ad arrivare alla verità Le commissioni Di inchiesta Durano decenni È come se Si facesse fatica Ad avere Una memoria Condivisa Su alcune cose No? Assolutamente Condivido Quello che ha detto Luchino Chessa Il problema È che non possiamo Prescindere Da risposte certe 140 morti In questo caso Sono la più grande Strage della Marina Mercantile Dal dopoguerra Ad oggi È qualcosa di inaccettabile Arrivare a 25 anni E non avere risposte Che siano soddisfacenti Il dolore Dei parenti Non va in prescrizione Tanto per cominciare E quindi sarebbe opportuno Veramente anche Da questo punto di vista Colgo subito L'occasione Che l'avete sollevato Che la commissione L'inchiesta Portasse veramente Poi a riaprire Il processo Senta Nogarin È stato chiamato Questo caso L'austica del mare Perché ci sono Come dicevamo Anche nel servizio Delle similitudine Ci sono delle cose Che riguardano Il ruolo degli americani E quant'altro Lei crede che la politica Abbia avuto un ruolo Nel fatto che Su questa vicenda Ancora non si sia fatta luce? Ma guardi Io non Non voglio Fare speculazione O cercare di fare Dietrologia Con il seno di poi Io voglio veramente Essere pragmatico E voglio guardare avanti Come ho detto Auspico che La commissione D'inchiesta Voluta da tutto L'arco parlamentare Possa portare A dei risultati Che sono assolutamente Positivi I risultati positivi Di una commissione Che ha dei costi enormi Per il cittadino Deve però portare A dei risultati Concreti Perché questo è Il minimo Che si possa avere Ormai siamo a sue fatti Alle disgrazie Alle morti E passiamo Da una situazione A un'altra Con una facilità incredibile Dimenticandoci poi Di quello che È accaduto Poco prima In realtà qui Abbiamo bisogno Di memoria Abbiamo bisogno Di concretizzare Quello che è Un fatto così grave Da essere tale Quest'anno Al venticinquesimo anno Da essere Allora Noi naturalmente A dirà dell'anniversario Di quest'anno Proveremo a continuare A raccontarvela Questa storia Perché pensiamo Che appunto Per un paese È molto importante Far chiarezza Sulla sua storia Sulle vicende Che hanno interessato I suoi cittadini Io però adesso Bisogna di avere Un po' di tempo Per parlare Con Lorella Cuccarini Di 30 ore per la vita 30 ore per la vita Ripetiamo Lorella Qual è l'obiettivo Principale Di questa raccolta Quello di Prima di tutto Di migliorare la cura Dei bambini malati Di tumore E soprattutto Di tentare Di azzerare La disuguaglianza Che c'è Nell'accesso Alle cure Da parte di questi bambini Spesso Abbiamo conosciuto Famiglie Che devono Affrontare Viaggi Della speranza Per lunghissimo Ci dicono Che i bambini Con questo montaggio Questo numero 45 594 Per combattere il tumore Ho bisogno di una casa È una grande iniziativa Avete visto Che i risultati si vedono E sono concreti Vi prego davvero Di mettervi una mano Sul cuore E dare un aiuto A 30 ore per la vita La pubblicità Torniamo subito 11.59 Come sempre Ci colleghiamo Con il sito della set C'è con noi Luca speciale Ciao Luca Ben trovato Che notizie abbiamo Quest'oggi Buongiorno Buongiorno Mirta Allora oggi partiamo Dal presidente del consiglio Renzi Che questa mattina Di Buonora Ha twittato Oggi giornata storica Ha detto Grinta e riforme Perché? Perché oggi In sesta lettura Alla Camera Ci sarà La riforma Costituzionale Dunque un passaggio Fondamentale Lo ritiene L'esecutivo Le opposizioni Chiedono Che il voto finale Poi venga rinviato Ma il governo Vuole Vorrebbe Chiudere Mercoledì Le riforme non bastano Però Ha detto In mattinata Renzi Che a Verona Dove ha visitato Alcune aziende Dove ha partecipato Anche a Vinitaly L'Italia Ce la farà A ripartire Ma bisogna Smettere di lamentarsi Dice il presidente Del consiglio Perché questo paese È più forte Di come Lo raccontano Dunque cerca Di metterci Grinta Ed entusiasmo Per uscire Da un momento Anche mediaticamente Difficile Per il suo Governo Ha parlato anche Del Jobs Act Dicendo che A parere suo I numeri Dicono Che è valido E che funziona Nonostante Siano Diminuiti In questa fase Gli incentivi Per chi Assume Renzi Che deve Dividersi Anche con la lettura Di numeri Sempre difficili Da interpretare Come quelli Sulla crescita Oggi Sono arrivati Quelli Sulla produzione Industriale Che cala Ancora una volta Nel mese Cioè Meno 0,6% Rispetto A febbraio Rispetto A gennaio Ma continua A crescere Nel rapporto Con l'anno Passato Del 1,2% E poi C'è il caso Intercettazioni Dopo che Proprio Renzi Ha ribadito Che il Governo Non intende Mettere mano A una riforma Delle intercettazioni Ma ha invocato Anche a buon senso E responsabilità I giudici Perché Ha chiesto Di non vedere Vicende Familiari E pettegolezzi Sui giornali Intanto Mirta Oggi Il Consiglio D'Europa È tornato A bacchettare L'Italia Lo ha fatto In merito Alla difficoltà Che riscontrano Tante donne Italiane Che vogliono Accedere All'interruzione Di gravidanza Dunque All'aborto Nonostante Appunto Quello Che dice La legge 194 Sì Pertanto L'Europa Il Consiglio Europeo Con una pronuncia Relativa A un ricorso Fatto Dalla CGL Ha parlato Di violazione Del diritto Della salute Fatta dal nostro Paese Dicendo anche Che l'Italia Discrimina I medici Che non hanno Optato Per L'obiezione Di coscienza Che sarebbero Vittime Di svantaggi Sul lavoro Altro argomento Di giornata Lo è tutti i giorni La vicenda Reggeni Con quello Che sta diventando Sempre più Un grave Caso diplomatico Con l'Egitto Ieri L'Unione Europea Per voce Di Federica Mogherini L'alto rappresentante Che in una nota Ha detto Che l'Europa Si schiera Al fianco Dell'Italia Per quelle Che saranno Le decisioni Che l'Italia Prenderà Sempre alla ricerca Della verità Sur Reggeni L'Italia Sta studiando Le mosse Per rispondere Alla reticenza Diciamo così Degli inquirenti Egiziani L'Italia Al momento Non sembra Voler mettere In discussione Chiaramente I rapporti Commerciali Partirà Soprattutto Dallo scoraggiare I viaggi Per turismo E quelli Per studio Però Avvierà Anche contatti In sede Di Nazioni Unite Per mancanza Mancato rispetto Dei diritti umani Anche perché Le torture Che ha subito Il giovane Ricercatore Il tipo di torture Riconducono Inevitabilmente A uomini Degli apparati Di difesa A persone Addestrate Diciamo che Su quelle torture C'è proprio La firma Di persone Che non sono Delinquenti Comuni Grazie Luca Ci rivediamo Alle 13.30 Con il Tg Io vi riporto A parlare Delle condizioni Degli italiani A parlare Di pensioni Come sapete Matteo Renzi Nel corso Di una diretta Facebook In cui ha Sposto Le domande Dei cittadini Ha detto Che sta Pensando A dare Di 80 euro Alle pensioni Minime In Italia Si è fatta Molto polemica Su questa Sua dichiarazione Siamo andati A parlare Con chi ha Una pensione Minima Per capire Se questi 80 euro Potrebbero essere Una soluzione Una boccata D'ossigeno Guardate Di 80 euro In più Al mese Cosa vorrebbero dire Per lei Vorrebbero dire Tutte quelle medicine Che ci fanno comprare Un aiuto immenso Sono 1000 euro L'anno Per ora Il governo Renzi L'ha solo annunciato Un bonus Da 80 euro Ai pensionati Con la minima Adriana è una di loro Fa parte di quei Due milioni di italiani Con un assegno Sotto i 500 euro Persone abituate A rinunciare a tutto A iniziare Dalla spesa Di ogni giorno Non compro questi Non compro questi Ogni tanto Facciamo Un colpo di testa Melone Che lo butti via Più di metà Guarda il prezzo Questa qui è roba Che mastichiamo Con molta difficoltà Con la dentiera Siamo tutti portati Sull'insalata Questa qui Ma è troppo cara Questo è un angolo Che abbiamo creato Con delle offerte Praticamente Prevalentemente Per i pensionati Hanno il conto Di tutto Ha 83 anni Adriana Con lei C'è la cognata Luisa Entrambe Pensioni minime Non usciamo più A mangiare Neanche una pizza Neanche si fa per dire Il giorno di Pasqua Abbiamo eliminato Subito Subito La macchina Noi ci arrangiamo In casa Per i capelli Ci tingiamo I capelli Questi sono i bigotini Abbiamo imparato A montarceli Da soli Sono anni Sono anni che non ci Comperiamo vestiti Lei e mia cognata È dimagrita E mi passa La roba Io me la metto Tutta A chi dice Che l'aumento Sarebbe un regalo A chi ha pagato Pochi contributi Adriana Ma risponde così Non sapevo neanche cosa volesse dire La parola contributi Cominciato da ragazzina Che ti mandavano a fare la startup Andavi a imparare E basta Era già molto quello che ti davano Comunque il bonus è solo un'ipotesi Dal governo avvertono che prima bisogna guardare bene i conti Come fanno i pensionati tutti i mesi Quando c'era ancora la lira Avevamo l'aumento di 2 o 3 mila lire Dal 2 mila in poi niente Noi siamo fortunati che abbiamo già la casa Perché se avessimo l'affitto saremmo in una camera sola Dovrebbero togliere un pochino a chi ne ha di più Che non se li godano neanche tutti Che non ci riescono E lasciar vivere un po' più le persone normali Allora questo è uno spaccato dell'Italia L'angolo per i pensionati al supermercato Una signora che ha 500 euro di pensione E per lei quegli 80 euro valgono il 15% di quello che prende di pensione Quindi non sono qualcosa da poco E poi anche quello che racconta la signora Adriana A 14 anni ha cominciato a fare la sarta Non sapevo neanche cosa fossero i contributi Devo dire che anche i giovani di oggi Sanno poco cosa sono i contributi purtroppo Ne parliamo stamattina con Paolo Crepe Psichiatra, ben trovato Benvenuto Crepe E' rimasto con noi Maurizio Gasparri Vice Presidente del Senato Lo ringrazio E nella traccia di Fabrizio Rondolino Giornalista e scrittore Una delle firme di spicco dell'Unità Ciao Fabrizio, ben trovato Buona idea questa di 80 euro ai pensionati minimi di Renzi? Si tratta tecnicamente di un aumento delle pensioni minime E quindi sì, è una buona idea Perché tra l'altro è stata richiesta più volte Spesso si parla giustamente Ci vuole un prodotto più articolato La rivalutazione delle pensioni e non basta Sì sì, ma ci vuole sempre Cioè siamo nel paese in cui si può sempre fare meglio Forse questo è il motivo perché non si combina mai niente Perché c'è sempre un modo migliore per fare le cose E questo è una misura per carità Ripeto, ce ne saranno sicuramente anche di migliori Però se si riesce a fare Cosa che non è neanche scontata Perché bisogna trovare i soldi Sono circa 4 miliardi se non sbaglio Quelli che servirebbero per questa manovra Perché poi la critica è Molte di queste pensioni Sono pensioni che non vengono pagate In base ai contributi versati E quindi chi ha pagato personalmente tra i contributi Rischia di avere un trattamento meno positivo Nel mondo perfetto Però attenzione, lì c'è anche un problema di retroattività A me personalmente neanche dispiacerebbe Che tutte le pensioni italiane venissero ricalcolate Sulla base dei contributi Però esiste il principio della retroattività Per alcuni redditi minimi sarebbe un problema No, nel senso che se tu fai una legge Questa legge normalmente il diritto vuole Che vale per il futuro, non per il passato Dopodiché le pensioni più alte Mi sembra ragionevole intervenire Dobbiamo decidere cos'è alto Se alto sono mille euro Se alto sono diecimila euro Quanto alle minime invece Lì c'è proprio un problema di sopravvivenza C'è una solia sotto la quale Lo Stato comunque Voglio sentire un attimo crepe sul clima Noi abbiamo messo a servizio una musica allegra Raccontando invece una storia Naturalmente che fa anche male Vedere una signora che dice Questa insalata non me la posso permettere Non me la posso comprare Oggi Renzi parla di grinta e coraggio L'Italia che riparte Ma in realtà tu come lo senti Prima di questo paese? Beh intanto Credo che le pensioni minime Debbano essere ricalcolate Perché la dignità Credo che non abbia prezzo C'è una persona che debba scegliere Tra due tipi di cipolla A 70 anni È una cosa da 75 anni Ma non è la cipolla Soprattutto sono i farmaci essenziali Questo che fra l'altro È una idiozia totale dello Stato Perché se una persona A 75 anni Non può più prendersi i farmaci Penso Per il diabete Tanto per dirne una Poi paga Paga il sistema sanitario nazionale Perché avremo un accumulo Di persone in ospedale Persone che Ipovedenti Eccetera Quindi credo che questo sia Dal punto di vista economico Una cosa che è evidente Che fa bene Questo è uno Poi però Ci sono delle cose Che bisogna guardarci Perché se dall'altra parte C'è uno sperpero Di pensioni Di invalidità Di gente Che ci vede benissimo E per lo Stato è cieco O di gente Che va a correre E non Per lo Stato In carrozzelle Beh questo è insopportabile E soprattutto Insopportabile Che ci siano Due o tre Italie Perché guarda caso Questo di cui sto parlando Non è distribuito A livello nazionale In maniera omogenea Purtroppo il Sud È campione assoluta E allora il Sud deve L'Umbria è il campione assoluto Anche questo L'Umbria è in percentuale Prendiamo L'Umbria Di pensioni di invalidità Di pensioni di invalidità Si fu una scoperta anni fa Ma lì stanno all'ombra Eh lo so L'Umbria Eh sennò sempre il Sud Adesso lo verifichiamo Lo verifichiamo Per me può essere anche Bolzano Non sto facendo una questione meridionale Sto dicendo che Quelle regioni A macchia di leopardo Che hanno un tasso eccessivo Insopportabile Chi truffa lo Stato Toglie a chi ha meno Questa è la verità Togliamo le cipolle Allora signora Volevo sentire L'istante Elisabetta Solo per capire Lei ha chiedato Che Elisabetta Ha una pensione minima Sotto i 1000 euro 900 Non è minima Perché la minima Perché la minima è quella Che non arriva ai 500 euro Però sotto i 1000 euro Sotto i 1000 euro Ti sembra una buona idea Le 80 euro Allora intanto Ritorniamo al solito discorso Meglio quello che un calcio negli stinchi Uno Però La saggezza di Elisabetta Però una cosa sola Io non riesco a capire Perché creare delle aspettative Nelle persone Prima di sapere con certezza Se ci sono i fondi o no Io dico Prima uno cerca i fondi Dopodiché fa l'annuncio Allora Dice Elisabetta Un'uscita un po' elettorale Appunto Renzi Fa queste uscite pre-elettorali Si va verso amministrative Delicate Si crea l'aspettativa Poi si farà Non si farà Ne avremo quelli Le avremo quell'altro Poi Già oggi Se si vedono i giornali Si prospettano La cancellazione Di alcuni benefici fiscali Quindi casomai Tu dai 80 euro Però levi alcune detrazioni Ce ne sono troppe Forse Però Noi nella vicenda precedente Con la di centrodestra Facemmo un'operazione Per una ampia fascia di italiani Di adegomente Favamo questi 516 euro In Sirica Il milione Di vecchia lire Per quelle pensioni Che erano sotto Quella cifra Oggi uno stando di 1000 euro Dovrebbe essere Esteso a vari Quindi ha ragione Il professor Chebrego Diceva ha fatto Una rivoluzione delle minime Poi ci sono Le aree di furbizia Poi la vecchia politica Prima ho citato il caso dell'Umbria Però non c'è dubbio Che in alcune aree del paese Lo scambio Tu non hai sviluppo economico Però ti largheggio Era una forma di assistenza sociale Che ha Come dire Beneficiato alcune parti del paese Però io non riesco a creare lavoro Vi do un po' di sussidi Vi do un po' di sussidi Quindi pure quelli che l'hanno avuto Sono dei furbi Però spesso era quasi Un'alternativa Casualmente ti metto Ad Augusta La chimica Che inquina un po' di più Che dalle altre parti Non la vogliono Te la metto a Ottana In Sardegna E poi in cambio C'è stata un po' Una politica Sbagliata Ai danni anche del sud Detto questo Andava fatto Adeguamento degli 80 euro E pensionati da prima Noi dicemmo Quando si fecero gli 80 euro Ai lavoratori dipendenti Perché scudere i pensionati Che sono quelli che poi C'hanno il dilemma Tra il prezzo E gli utili di cipolle Spesso E quindi Come dire Quindi se lo fa Lei è contento Ma se lo fa Per tutti i pensionati E sono contento Noi facciamo un discorso Di adeguamento Più ampio Delle pensioni Ad esempio Le farei un discorso Se quelli che hanno fatto La pensione Per il minimo di tempo C'era una volta Con 15 anni 6 mesi Un giorno Quindi c'è gente E lì forse Ci penserei Allora E' scoppiata una piccola polemica Su Twitter Perché Roberto Giacchetti Il candidato del PD Per Roma Ha detto Che ha chiesto All'attrice Claudia Gerini Il ruolo di fare Il testimonia Per il recupero Delle opere incompiute A Roma Virginia Raggi Gli ha risposto C'è chi cerca Testimonia Per opere incompiute Ma unico vero Testimonia Del disastro A Roma E' il PD Che ha governato Per 20 anni A quel punto Giacchetti dice Lo sponsor di Raggi Dà la comunione Con i grilli Lo sponsor di Meloni Dà del venduto A Mattarella La Roma Merita di meglio Bertolaso Facendo Bertolaso Fa campagna Elezionale Per Bertolaso Secondo Gasparri In realtà Fa riferimento A due cose Che sono successe Cioè Grillo E' lo suo spettacolo Ha fatto questa cosa Un po' blasfema Di fare la comunione Ai suoi parlamentari Con dei Non ho capito bene Se sono veramente Dei grilli estricati Dei grilli canditi Pare che fossero Grilli veri Grilli veri Perché la povera Appendino Ha detto Sono incinta Non vorrei prenderlo E invece Salvini Come ben sapete Ha dato del venduto E del Che altro venduto è? Dell'ubriaco Dell'ubriaco No ha detto Sono un ubriaco A Mattarella Che si era permesso Solo di dire Che il fatto Che il nostro vino Venga venduto In tutta Italia Ha un bel segnale Perché vuol dire Che l'Italia Senza le frontiere Va meglio E lui ha capito Male e ha fatto Questo post Che adesso vedete Se l'ho detto Da sobbio Complice è venduto Va bene Questo dovevo Aggiornarvi Perché sta succedendo In questo momento Vi porto a parlare Di un altro tema Che riguarda sempre Però gli italiani Il clima La fiducia Sapete che le banche In questo momento Sono un luogo a rischio Almeno così sono considerati Da molti risparmiatori A cui sono capitate Brutte storie Con le banche C'era qualcosa Che nell'immaginario Di tutti Era veramente Il posto sicuro Per eccellenza Le poste Metto soldi Alle poste E sto veramente tranquillo Ebbene In un piccolo paese A Nievo Alle frazioni Di Monte Catini Terme In Toscana Un simpatico Dipendente Delle poste Ha pensato bene Di rubare Di portare via A dei poverini Che avevano messo Lì loro piccoli risparmi La bellezza Di 6 milioni Di euro Guardate In casa mia È stato fatto Un ammanco Di oltre 50 mila euro Mio suocero L'aveva addirittura Levati dalla banca Per metterli alla posta Grande fregatura Siamo a Nievole Frazione di Monte Catini E qui In questo piccolo ufficio postale Sono spariti I soldi Di teccine Di risparmiatori E a portarsi il via Sarebbe stato proprio Il postino 6 milioni di euro In totale Di buoni Polizie assicurative Libretti postali Tutti azzerati Sui quali sta indagando Ora la procura Nel midino Un unico nome Quello di Francesco Polizzi Per tutti Franco Unico dipendente Dell'ufficio Nonché ex consigliere Comunale Della zona Si era inserito Benissimo Nel paese Nel In tutte queste Insomma Era uno di noi Gentile Pestevole Tutto quanto E anche il dipendente Ora Sembra sparito Nel nulla Tanto che nel paese Di 350 abitanti Sono comparsi Questi manifesti Nelle mani dei cittadini Rimangono soltanto Delle ricevute False Quando mio marito È andato A vedere Che interesse C'aveva Gli hanno messo Un scritti A mano Con la matita Mio marito È tornato Mi ha detto E andiamo Un mese A mare Gratis Degli interessi Che ci vanno Però I documenti Erano quelli Delle coste Abbiamo provato Entrare nel piccolo ufficio Dove il dipendente Ora non lavora più Ma la porta C'è stata chiusa Chiave Nessuno vuole parlare Per telefono Dapposte Però Si assicura Se acceremo A tempo debito E con il massimo impegno Tutti gli enti E sono stati danneggiati Una promessa Che sembra comunque Non bastare I cittadini È una cosa Che si ripete Nel 94 O qualcosa del genere Sicché Dove L'ho visto Come facciamo noi? Loro hanno detto 6-7 mesi L'aspettano le rate Del mutuo L'aspettano le bollette Da pagare E anche il comune Di Montecatini È pronto ad attivarsi Il nostro tentativo È quello di Fare avere L'imborso O una parte Del rimborso In tempi solleciti Indipendentemente Al di fuori Dei giudizi penali Per o meno Di riavere il nostro 50% immediatamente Come ho detto In altre occasioni Subito Allora Ci ha raggiunti Raffaello Lupi Lo ringrazio Perché ha fatto Un lungo viaggio Per arrivare qui Ma oggi ci tenevo Che lei ci fosse Lupi I soldi Se li metti in banca Finisce male Se li metti alle poste Che ti rubano Che bisogna fare Con questi soldi Questa è un'infedeltà Del dipendente Cioè Il dipendente È come qualsiasi banca Io vado Ve l'abbiamo raccontato Amica Scemi a casa Lo sanno Io vado La banca Del vatte la pesca E il cassiere Invece Di darmi Mi dà La ricevuta Che ha fatto Lui Se l'è Autoredatta E nei libri Della banca Non versa nulla E i miei 2000 euro Se li tiene lui Comunque Questo franco Se lo becca Non lo fanno Nero A Montecatini Termini Di questo Ne risponde La banca Cioè Non è un risarcimento È solo una questione Di prova Che ha avuto Un impiegato ladro Ma chiaramente Del furto Dell'impiegato Ne risponde La banca Perché Credo che dovrebbe E essere fatto Anche Cioè Il dipendente Banca Può riconoscere Che Quella era Dipendente suo Quelli Hanno in mano Una ricevuta E il dubbio è Ma chi me lo dice Che la signora Rosa Un'altra ricevuta Non se l'è scritta Da sola Esattamente Quindi C'è da fare Un minimo di riscontro Perché dice I ladri che rubano All'altro Gasparri Lei fa sempre Incarellare I miei autori In un modo meraviglioso La roba Delle pensioni Invalidità Di assegni sociali Per pensioni Invalidità Ce ne sono 7,8 Ogni mille residenti Al nord E tre volte Tanto al sud No ma io dicevo Che in Umbria È percentuale Alla popolazione Vedete un po' C'è l'Umbria È un dato alto Sì è chiaro Che al sud Ci sono Calabria 101 per mille Campania Sicilia 97 In fondo troviamo Milano Magna In Umbria In percentuale Alla popolazione Era molto alto Quindi mica ho detto Che il sud Anzi ho dato anche Una lettura sociale Non è che riguarda L'ordine dei medici Non è che riguarda Solo lo Stato Voglio dire che riguarda Anche l'ordine dei medici Perché chi certifica È un medico Allora siccome il medico È rintracciabile Se un signore Bravo sono d'accordo con te La differenza sarebbe questa Cominciamo a mettere Infatti avevano beccato Quest'ultimo scambio Uno degli ultimi scambio Sulle pensioni taroccate C'era il medico Che faceva parte Della Cricca Riceveva Milano di segno Di cambio Di una certe cosa Quel mio collega lì Che fine fa? Scusate Abbiamo parlato anche Di banche Toscana Il nostro servizio Era agnevole Se non sbaglio Sapete che su Banca Etruria C'è stata invece Una questione molto complicata Che è diventata anche Il peccato originale Di questo governo E ha messo nei guai Il ministro Boschi Che però Renzi Continua a difendere Estrenuamente Tanto che Crozza Ne ha fatto una ballata Guardate Matteo Vuoi che mi dimetta? No Maria Elena Io ti difendo sempre Cosa fa? Tu sei Ginevra Io Sono il tuo Lancilotto Anche se lui Era figo Io sono un Barilotto Forza Fattevi sotto Cattivi E scusa Manca la ciccia Io sono una ragazza Molto prude Alcune cose Non le faccio vedere No 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 Ma Crozza Per carità Io poi ho già litigato Con Salviano La settimana scorsa E ora si litigo Anche con Crozza Non posso più Vivere in Italia Perché ci sono alcune Alcune divinità Fa arrabbiare i grillini Come nessun altro al mondo Intoccabile Le querelle non le fanno mai Le querelle io le aspetto Te le annunciano Mi daranno mangiare i grilli secchi Mi daranno dei grilli secchi Per punizione No vabbè Il rapporto Boschi Re Il rapporto Boschi Re Sì ragazzi Il rapporto politico Essenziale Questo l'hanno capito Gli autori di Crozza L'hanno capito i grillini Hai capito tu Quando dici Che il peccato è originale Cioè C'è poco da fare È un architurale del governo Esatto È un architurale Politica E di questo Oltre ad essere anche una Che fa un sacco di lavoro Nel senso che Anche tecnicamente Serve al governo E quindi E quindi ci sta Adesso molto laicamente Fa parte della battaglia politica Che se c'è un'occasione Di dare addosso alla Boschi Oggi abbiamo anche letto Che Vinismaghi È diventato presidente Della Chianti Banca Quindi diciamo Che questo tema Toscana Banche Come dire Luoghi di potere In qualche modo Continuano ad andare avanti Nonostante le polemiche mediate Sembra di Vinitaly Chianti Banca Sembra di Vinitaly Buon darsi che producano Sarebbe Posso dire Sarebbe veramente più sicuro Investire in bottiglie di vino Che queste strane obbligazioni Che c'hanno C'è chi lo fa Ci sono persone che investono In bottiglie Lo dicono anche la criminalità A volte Perché ci sono bottiglie pregiate Che è roba non tracciabile E fare che ci siano Alcuni che lo facciano Comunque se Vinismaghi Rimette In rilancia Due banche di credito cooperativo Le fa diventare Una sola più grande È un vantaggio Per tutti Ben venga Niente di opaco Se però rimbossassero La banca Ma perché ci deve essere sempre No però Questo è proprio un retropensiero Perché ci deve essere sempre qualcosa di opaco Cioè E qua è veramente la cultura del sospetto Allora le banche si devono raggruppare Perché così è un fenomeno mondiale Se le banche non si raggruppano Falliscono Se le banche falliscono Ci andiamo di mezzo a noi Ti faccio presente Che mezzo PD Dice questa cosa Massimo Mucchetti Ha fatto un'intervista durissima Dicendo tutta una roba Che riguarda Lotti Il padre di Lotti Massimo Mucchetti non è mezzo PD Massimo Mucchetti è unitorialista Il torriere della sera Mucchetti che scrive sull'unità Come rondolino Giorni fa è stato costretto A pubblicare sul fatto Un articolo Perché l'unità non gliel'ha voluto pubblicare Sulle banche Io leggo tutto Non c'è la spazio Non c'è la spazio Perché sarà mai L'ho mandato all'unità Sulle banche E Mucchetti oggi è il presidente della commissione Sembra il milco povero Il milco povero Il titolo io scrivo che non vengono pubblicati E che sarà mai Succede ogni tanto Comunque Io dico una cosa Il dibattito Fa sempre bene Quello che io contesto È il pregiudizio negativo Cioè siccome si fondono due banche Deve esserci un imbroglio No Siccome si fondono due banche Questa è una l'unità positiva Per il sistema bancario Sarebbe un problema Che si dividessero Bravo Poi se ti beccano Ti devono bastonare Se veramente Il problema è che ritardano I rimborsi Alle persone A cui hanno rifilato E questo è un altro discorso I titoli Ieri sera ho visto Una trasmissione Che non cito Perché di un emittente concorrente Un vecchietto che dice Ho fatto il postino Tutta la vita L'avevano rubricato Come imprenditore Sai in quei famosi moduli Conferite dalla banca E gli hanno rifilato Cioè Gasparri che guarda il reporto Questo è gravissimo Guarda che Gasparri sa tutto E guarda tutto Rondolino Non risfugge niente Lupi dobbiamo parlare Di dove si mettono i soldi Perché alcuni li mettono In banca in Truria Altri li mettono alle poste E finisce così Soltanto in quel caso Perché il resto delle poste È una grande istituzione Molto solida Voglio dirlo Pubblicamente Però alcuni invece Decisono che forse è meglio Mandarli lontani Per esempio a Panama E nasce il Panama Papers Si scopre che Molti personaggi Davvero Insospettabili E imprevedibili Hanno i soldi all'estero E questo mette in crisi Anche alcuni cliché Su alcuni personaggi Del mondo della cultura Dello spettacolo Della politica Vediamo E poi Lupi Naturalmente smonterà tutto Dirà che è una fesseria Ma io voglio arrivarci L'onda anomala Dei Panama Papers Ha investito 140 politici E uomini di stato Un inciampo sulla coerenza Che mette a rischio Molte leadership Trasmentite Querele E vocazioni di complotti E stupito candore Se non lo fai per evadere Allora perché Nascondi i soldi all'estero Ti è più comodo Il banco Matt a Panama Rispetto a quello Sotto casa Ti piace prelevare I soldi in Bermuda Non lo so Qualcuno viene compromesso Da un parente È il caso Del premier britannico David Cameron In imbarazzo Per i legami Con le attività finanziarie Del padre Ormai innegabili Cameron è in cima Alla lista Dei più danneggiati Dallo scandalo Lo stesso vale Per il presidente argentino Macri E per l'ex premier islandese Gunn Laugson Che si è dovuto dimettere Travolto dalle proteste di piazza Nella categoria Degli imperturbabili Invece spicca Il presidente russo Vladimir Putin Per nulla scalfito Dalla bufera mediatica Che ha coinvolto Uomini della sua cerchia di potere E se la migliore difesa All'attacco Eccolo gridare Al complotto americano Nella classifica Di quelli che non sembrano Messi in discussione Dallo scandalo Ci sono anche i vertici Del partito comunista cinese Tirati in ballo Per interessi corposi Nei paradisi fiscali Restano silenziosi Come sfiggi Trincerati Dietro la censura Avreste mai immaginato Di vedere nella vita Una lista di nomi Che mette insieme Barbara D'Urso Con la famiglia Di Mao Zedongi Tra i danneggiati E gli imperturbabili C'è la categoria Di coloro Che non ti aspetti Di destra E di sinistra Il fondatore Del front national Jean-Marie Le Pen Avrebbe utilizzato Un fondo caraibico Per sottrarre al fisco Banconote Lingotti E monete d'oro E due fedelissimi Della figlia Marine Avrebbero portato All'estero Fondi sospetti Di una società Legata al partito Ma a tenere Buona compagnia I populisti Nel paradiso di Panama Ci sono anche Icone del mondo progressista Il regista Pedro Almodovar Fussigatore Dell'economia di mercato Avrebbe fondato Una società offshore Negli anni Dei suoi primi successi Non è la prima volta Che artisti di sinistra Inciampano sulle tasse Il cantautore Giuno Paoli È stato accusato Di veri vaso E fisco Trasferendo Due milioni di euro In Svizzera E poi ci sono Le figure più popolari Lontane a miluce Dai sentieri della finanza Carlo Verdone È presente nella lista Panama Papers Come titolare Di una società offshore Liquidata nel 2014 Un'operazione poco chiara Stando alla sua difesa Anche allo stesso regista Allora Lupi Naturalmente c'è un tema Che va oltre Diciamo l'aspetto penale Se evasione Illusione Ma che riguarda Proprio l'approccio Se tu fai Come succede al Almodovar Per esempio Fai i comizi Contro il capitalismo L'economia di mercato Poi è strano Che finisci Con i soldi a Panama Però detto questo Lei invece cosa pensa Di questa faccenda Perché io adoro Raffaello Lupi Perché lui smonta sempre Qualunque idea Mi faccia di qualcosa Arriva Lupi E la smonta completamente Prego vada Perché nel senso Le cose sono un po' più Articolate Però l'idea È sempre sensata Di partenza Poi va un po' Precisata Perché rispondiamo A crozza Perché se uno Deve Fare evasione Non deve evadere Va a Panama Perché ci sono I creditori Cioè Gaucci Perché è andato a San Domingo Perché era inseguito Ai creditori Ci sono I familiari Ci sono I giudici Perché tu Non è che hai evato I familiari Che vuol dire Metti che ti divorzi La tua moglie E poi non ti può fare niente Per esempio Magari c'hai due mogli Due figli Di cose Di compagne diverse Allora tu vuoi schermare Parte del tuo patrimonio Ma non è una cosa Però eticamente Molto precisa No che dici Tu Ti rasconderesti Da Simona a Panama Non lo so Rondolino Cioè La persona Per bene Non la fa una cosa così O no Ma non c'entra niente Col fisco Ok Poi Ci sono Gli eredi Di famiglie Imprenditoriali Quindi Che Hanno messo Il figlio Di Rovelli Di Nino Rovelli Quello Ci sono C'è anche Cameron Che è super nei guai Perché la mamma Le ha fatto una donazione E certo Perché Quella è un'altra Certo Ma come quelle di Rovelli Sono i soldi Di famiglia Cioè Mi sta benissimo Che venga Possiamo dire una cosa Forse però Se devi fare il primo ministro Due parole in croce Sì scusa Siamo un paese Impoverito Vedevo prima Una start up C'era uno Che raccoglieva le cose Dei cassonetti Si lanciava nel business Cioè ormai Non c'è più un cassonetto libero Ci stanno le file Ai cassonetti Quindi siamo un paese Impoverito Incattivito Per cui Già il fatto Che uno Ha i soldi di famiglia In sé È una mezza colpa E ci può stare Lo capisco Se poi Non ci hai pagato Neppure le tasse Perché tuo padre Era un evasore O era un tangentista O era uno Speculatore Allora Si crea No no Per capirci È una mezza Di lui È il più grande esperto Di cinema italiano Il padre di Rondolino Cominciamo a mettere I polpini sull'aria C'è una madre pure Cioè non è quello C'è i soldi a pagno È troppo affascinato E la difesa Ma non è la difesa La spiegazione Qui ci si Ci prende Una schizofrenia sociale Tutti contro tutti Come dicevo Tutti maledetti evasori Poi l'istante dopo La stessa persona Maledetta Equitalia Cioè Ci stiamo lacerando Allora Cerchiamo di capire Non è colpa Del figlio Dell'imprenditore Non è colpa Di Cameron Nessere nato Figlio di suo padre Dato che Lupi Però siccome c'è un problema Di trovare il capro espiatorio Di quello che dicevamo prima Perché la società Si sta chiudendo Cioè c'è un problema reale Di erci Allora Dato che Lupi Ha evocato la schizofrenia Non posso non chiedere Un parere a che pena Alla psicologia Come dire Motivi professionali Che dici Ti convince Questa analisi di Lupi No a me è quello che Mi ha colpito Che Sia Una cosa così Globale Perché Sapere che Cameron Ha pagato Le tasse Equamente Pagando il 32% E qui il 32% È un sogno Sì Il 32% È a marzo Poi deve arrivare A giugno E quindi Arrivare Quasi al 60 Allora Mi colpisce molto Questo Cioè vuol dire Che l'evasione È dentro l'uomo Perché anche Chi paga Delle tasse Ragionevoli Allora noi italiani Cosa dovremmo fare Se Cameron Pagando il 30% Deve mettere I soldi Da qualche altra parte Non oso pensare Cosa paghino Di tasse I leader cinesi Credo lo 0,1 Eppure Nonostante questo Mettono da parte Da qualche altra parte Allora noi che dobbiamo E questo è una cosa bellissima È un rinascimento Questo è molto interessante Perché allora Noi cosa dobbiamo fare Noi che siamo Tra i peggiori al mondo Cioè Grepe Stava smontando Lo dico a Gasparri Quell'idea per cui esistono I paradisi fiscali Perché esistono Gli inferni fiscali L'idea che anche Berlusconi Diceva Se pago quelle tasse lì Mi sento autorizzato Ad evadere In realtà dice lui Anche come le tasse sono poche L'uomo è portato all'evasione No Coglie le opportunità Coglie le opportunità Coglie le opportunità Io per esempio Sono sempre rimasto In curiosità Del fatto che Molti anni fa La Fiat Parlo degli anni 70-80 Aveva una società A Nassau Non parlo di adesso Che con Marchionne Si è globalizzata Parlo degli Agnelli E Furio Colombo Che fa il moralista A giorni al tenni Prima sull'unità Adesso sul fatto Era nel consiglio Di amministrazione Della Fiat Nassau E uno Furio Colombo Che farebbe L'attacca A qualsiasi contribuente Pure quello Avanti al cassoletto Per sapere Se nasconde qualcosa Quindi c'è molta ipotesia Ma perché quello Che diceva però Lupi Coglie le opportunità È una cosa illegale C'è l'opportunità Mi faccia dire Su tutto Budi Oh non c'è un americano In questa lente E quindi questa è un po' una cosa Cioè gli americani Tutti bravi Grande mistero È un po' una polpetta C'è così Putin Rondolo che c'è una No 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 Infatti i russi e i cinesi E i sauditi Ci sanno anche Perché le americane e i mili Sostengono che sarebbero Un'oportunità Di complotto della CIA Cioè che questi hacker Siano in qualche modo Al soldo della CIA Però io questo non lo so No è quello di una cosa Rapidamente Crepe ha perfettamente ragione Dopodiché Però è anche ovvio Se io posso non pagare Provo a non pagare Anche se paghi Che sia l'un per cento O il novanta per cento Però sei marcio No 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 Voglio dire Se tu paghi Il quindici per cento Di tasse Sì E scappi anche col quindici Beh vuol dire Sei marcio Perché non dipende Dalle aliquote Siamo molto Della categoria morale Non dipende Non dipende dalle aliquote Ma dalla percezione Di essere individuati Cioè Cameron Ha evaso L'imposta sulle successioni Che è di difficilissimo Accertamento Cioè se pensi Che non ti beccano i vati Questa è la teoria Facciamo finire Rondolino Ma devo andare in pubblicità Scusi Lupi Rondolino Ma poi devo andare in pubblicità Però secondo me Il punto Non è mica il fisco Il punto è Credo che lo accennassi Certo Cioè il punto È nascondere i soldi E io su questo Io su questo Adesso non voglio passarlo Io non ho conti Cioè c'ho un conto Nei Stati Uniti Piccolino dichiarato Che mi serve Per gestire la casa 8 mila dollari Nel Nevada In una banca Nel Nevada Alla Bank of America Dichiarato il fisco Quindi io sono Perfettamente in regola Ok Detto questo Se io ci avesse Un milione di euro Non so dove li metto Ma vorrei essere Da solo a decidere Cioè l'idea Che uno nasconde i soldi Ma non soltanto Dall'amante Anche da Giuliano Amato Che di notte Te piglia il 2% Dal conto corrente Non è un'idea sbagliata 6 per mille Scusa Non è Non è Cioè non è Un'idea sbagliata Io rivendico il diritto Se i soldi sono miei E se rispetto le leggi E dimetterli di fare Dove ti pare Ok Perché dopo io devo pagare Un reparto di rianimazione No Cioè io Le tasse Non è che sono Una cosa Che uno dice Sai Non c'ho niente da fare Io portimi i soldi Do un obolo No No io porto i miei soldi Io ci pago le tasse Ah Porto i miei soldi In Svizzera Dichiaro In pubblicità Anche se è una discussione Appassionante E devo dirvi Che è arrivato Alfio Marchini Che adesso verrà A raccontarci La sua corsa Per Roma Li porterò I saluti di Gasparri E anche il suggerimento Che sono pronti A scommettere E Marchini Non seguirà Lo so che non lo seguirà Però farebbe bene A seguirlo Pubblicità Torniamo subito Ma è un po' Nel cialiano Un po' Nel cialiano Allora Ve l'avevo detto Ci ha raggiunti Alfio Marchini Imprenditore Politico In corsa Per ora Solitaria Con la sua lista Civica Per la poltrona Di sindaco Di Roma E il re di cuori Di questa Partita elettorale Visto che il suo simbolo È il cuore Roma ti amo Un cuore con dentro Le strade di Roma Arriveremo fin lì Perché gli chiederemo Molto di Roma Dei sui problemi Concreti Diciamo che Marchini Ha stravinto Sulla rete Grazie al suo fake Che è Alfio Che fa dei commenti Meravigliosi Sui suoi competitor Elettorali Ve ne leggo uno per tutti Che insomma è bellissimo Ve lo fate vedere Quello lì Su Ignazio Marino Che è meraviglioso Ho letto il libro Di Ignazio Marino Interessante Finalmente Un buon tomo Per fermare La porta Del corridoio Che sbatteva sempre Per la corrente d'aria Libro Ti uso Roma Ti amo Allora Ben trovato Alfio Marchini Secondo me Arcio le fa un gran favore Perché la rende Molto simpatico E alla mano Perché lei sa Che è quello che dicono di lei Quindi vuol dire che Nella realtà non lo sono No nel senso che lei sa Che la critica che fanno su di lei È che è ricco Gioca a Polo È bello Fa una bella vita E quindi il fatto che Arcio la mette così a contatto Con la romanità Secondo me È un buon inizio Che dice lei? Beh Direi che sicuramente L'audioironia aiuta Aiuta a restare con i piedi Piantati ben per terra E secondo me È un antidoto perfetto Per ognuno di noi Per cui Imparare a sorridere Su se stessi È determinante Allora Partiamo dalla prima cosa Importante che lei vuol fare Da sindaco Perché ovviamente Adesso è il momento Di tirar fuori Programmi Cose concrete Le faccio sentire I suoi avversari Cosa hanno detto Delle prime iniziative Che vogliono fare E poi lei mi dice la sua Sentiamoli Quale sarà il primo atto Che lei farà Da sindaco di Roma Se viene letta Un gesto che secondo noi È simbolico Ed è anche fondamentale Per ripartire Il taglio della carta di credito Del sindaco Non serve Cambiare completamente La manutenzione Delle nostre strade Penso che la questione Delle buche Perché il problema di Roma È questo Io faccio questa metafora Roma è un museo Tramutato in stalla Il prossimo sindaco di Roma Qualora dovesse essere Roberto Giacchetti Sarà un sindaco Che sarà esattamente Come sta facendo In questa campagna elettorale In mezzo alla strada Il primo È la riorganizzazione Amministrativa Per dare elezione diretta Alla città metropolitana E trasformare i municipi In comuni metropolitani E l'altra grande questione È quella del debito capitolino Soffriamo E copiamo rabbia Noi capitale d'Italia Anche per Massimiliano E Salvatore Ricattati dall'India Se sarò eletto Sindaco di Roma Convocherò in Campidoglio L'ambasciatore dell'India E gli dirò Che se entro dieci giorni Non tornano in Italia Chiudiamo tutti i ristoranti Indiani in città Allora Marchini Prometta che le ristoranti indiani Non li tocca Che a me piacciono molto Partiamo da lì Promesso Va bene La prima cosa che farà lei Da sindaco Mi scusi Tommaso Labate Amico e collega Del Corriere della Sera Appena arrivato Ci farà compagnia In questo pezzo di puntata Prego Marchini Io penso che chi ci ascolta a casa Vede Sono vent'anni Che ascoltano sempre Le stesse proposte Le stessi proclami Hanno sempre gli stessi problemi Non cambia mai nulla Il vero punto qual è? Io prometto Di dare una discontinuità Vede Il tema che io ho deciso Da anni Da tre anni Di correre da solo Non è un problema di snobismo O perché chissà Quale motivo Perché io sono profondamente convinto Che serva una discontinuità Cioè chi ha mal gestito Gli ultimi vent'anni Di questa città Al di là dei proclami che fanno Non saranno mai in grado Di far nulla Se Marino cade dopo Solamente due anni In più firmando la rete Di fronte a un notaio Neanche avendo il coraggio Di andare in consiglio comunale Vuol dire che quel sistema Non è in grado Di dare risposte I programmi che fanno Sono dei programmi elettorali Allora O c'è una discontinuità Ma chi ha cogestito Vent'anni Non è in grado di farlo Quindi io la prima promessa È una discontinuità Le cose da fare Vede Sono semplici Ma allora Ma perché a Londra Ci fanno e a Roma no? Perché evidentemente C'è qualcuno Che a Roma Lucra su questa inefficienza E che purtroppo riguarda Non solamente i politici Ma anche a molti cittadini Che continuano a dare il voto A coloro i quali Concentrano di portare avanti Un sistema inefficiente E come si spezza questo? Perché naturalmente Ha ragione Il voto romano È molto anche orientato Dal fatto di avere Degli interessi condivisi Dei piccoli interessi Assolutamente Perché tu vede A me mi dicono Per chi te lo fa fare Io amo questa città Non me l'ha ordinato il medico Di farlo L'ho amata Dici due anni fa Che sarei rimasto L'ho fatto Abbiamo fatto opposizione Abbiamo dimostrato Che il nostro è il voto utile Abbiamo solamente il 10% Abbiamo mandato a casa Il grande PD del 40% Noi Non certo i grillini Che non hanno firmato La resa di Marino Quindi io amo questa città L'amo profondamente E so perfettamente Quello che c'è da fare E come farlo Non è che io non accetti I compromessi Perché voglio fare Il duro e puro Ma perché so Che i compromessi Con coloro i quali L'hanno cogestito Non sono fattibili I Cinque Stelle Si chiudono In una teoria Per cui parlano Tutte di cose astratte Ora la carta di credito Del sindaco È una cosa Sicuramente È negativa Ma non è un problema La carta di credito È l'uso che ne fai I temi non sono I simboli Ma sono le cose Che si fanno La carta di credito Da sindaco Ma guarda io Non lo so Se dico di no Dico E beh tanto Tu sei ricco Tu sei ricco C'è il complesso Da ricchezza Oppure se no Ticono Non prendi la macchina Noi abbiamo Noi abbiamo rinunciato Alle macchine di servizio Abbiamo rinunciato a tutto Perché? Perché penso Che sia giusto Ma il tema Non sono le cose Se questa città Non è stata distrutta Perché usavano La carta di credito O perché hanno Usano L'autista Ma perché Esempio Dei numeri La metropolitana di Milano Incazza circa 500 milioni di euro E la metropolitana di Roma Con il doppio Dei passeggeri Incazza 280 Ce sono circa Mezzo miliardo Ma un testo Delle fermate No ma In termini In termini Di evasione E di gente Che non paga Oppure di Tessere gratuite Dato Parliamo di Mezzo milione di euro Sono soldi Che vengono dotti A chi? Scusi E vengo al punto Alla mia promessa Abbassare le tasse Io ho sentito E la Meloni E la Raggi Che dicono Le tasse non si possono abbassare Ci devono abbassare Noi abbiamo La pressione fiscale Più alta che c'è in Italia Oggi Repubblica Fa un focus incredibile Roma è di gran lunga Oggi paghiamo Compreso i bambini E gli a 150 euro Noi abbiamo aumentato Dell'83% Le tasse Solamente la tasse Sull'immondizia Che è ancora più sporca A Roma Negli ultimi anni Ha aumentato Del 45% Non si può Con un'economia bloccata Continuare a vessare Sulle tasse Bisogna agire In modo concreto E ne sappiamo come fare Roma paga Le tasse più alte di Italia Le servizi peggiori D'Italia Ce ne siamo accorti tutti Vivendoci dentro E si può fare Guardi si può fare Chi dice che non si può fare E perché ovviamente Chi ha cogestione In questi anni Non può andare a toccare Quegli interessi Ecco ma Fridimanevo un attimo Sulla cogestione Che mi interessa Voglio dire anche Il parere di Tommaso Perché lui dice Io non è che sto da solo Perché non mi piaccia Perché voglio fare Il duro e il puro Io sto da solo Perché si resta Che a sinistra In questa città Hanno clamorosamente fallito Dopodiché Il dilemma Su Marchini È sempre Ma Marchini È di sinistra In fondo Ha avuto Alle toppe sulla giacca Come dice il mio autore Mimmo Torrisi È amico È sempre stato amico Della sinistra Suo padre Ha regalato Botteghe oscure Suo nonno Suo nonno Botteghe oscure Al partito comunista Ma tra l'altro Mi dica una cosa Marchini Ma l'ha mai cercato Il PD in questo tempo In cui lei è stato Ma guardi Io parlo con tutti E ho grande rispetto Di tutti Torno a dirle Anche questo fatto Di destra e sinistra Lei giustamente C'è uno di sinistra Perché c'è le top Sulla giacca Cioè veramente Mi viene in mente La canzone di Gaber Su destra e sinistra Cioè Quella è un ormai Vede Questa è una città Che è un po' A metà del paese In cui siamo tutti quanti Orfano di qualcosa Sono tutti ex Ex comunisti Ex fascisti Ex democristiani È giunto il tempo Di guardare avanti Cioè io voglio Che ci sia una proposta Non perché mio nonno Era comunista O perché quell'altro Ma perché abbiamo Una visione comune Vede Roma perché io l'amo Perché Roma Ha una possibilità fondamentale A riscoprire Una delle poche fiamme elettiche Sono rimasti I quartieri Di cui nessuno parla Un modello che deve Ritornare vicino Ma la gente Ci arriviamo ai quartieri C'è una mappa per lei Labbate Allora Che cosa dici tu Tommaso Tra questo tema Sul destra e sinistra Gli dà un punto di forza O in realtà Allora che gli schieramenti Ancora esistono E ci sono Gli rischia di rimanere Incastrato No? In questa Allora guardami Gli dà senz'altro Un punto di forza Perché il civismo Soprattutto dopo che Roma è stata reduce Da due giunte Molto politiche Che hanno evidentemente Mostrato un fallimento Può essere un valore aggiunto Ma in questo momento Come dire Rimanere fuori Dai contesti Della coalizione Può essere come dice Una scelta Come rivendica Giustamente Marchini Ma qualcuno potrebbe Digli come la volpe Della famosa uva Che non riesce ad arrivare Dal proposito però Visto che Salvini Fra l'altro Dice che si è chiamato Sempre più fuori Dalle questioni di Roma Come lei gli aveva Come gli aveva suggerito Io gli avevo suggerito Prudenza e umiltà Perché Roma E dei romani Che vengono da qualcuno Dalla padagna E dirci che dobbiamo fare Qua Non mi sembrava il caso Era un simpatico invito Alla saggezza Però resta Il punto Per Marchini Secondo me Ineludibile Che stante così Le situazioni La possibilità Di arrivare al balottaggio In questo momento Non ci sono Quindi da qui La mia domanda Esiste senza entrare Nei tecnicismi Di chi fa il city manager Di chi è di quello Che fa il vice La possibilità Di un ticket La possibilità Che si Come dire Riducano Le forze in campo In l'area moderata Perché in quello Sta da quattro Che sono A meno di quattro Allora al momento La Meloni Pare li voglia proporre Di fare il vice sindaco A Marchini Così ha detto la Pivetti E invece Bertolasoli Ha già proposto Di fare il presidente Del consiglio Comunale Che sta diventando Beautiful Sta diventando Non sono grandi proposte Ecco Allora Pubblicità E poi Marchini Se vuole fare Una di queste due cose O se vuole lui Fare una proposta A Meloni Sicuramente no Però le dico Quello che ho in mente Di fare Benissimo Pubblicità Torniamo subito Con un altro Marchini Mambo Italiano Mambo Italiano Allora Allora abbiamo Presto Perché il mio Rientro Qui senza di te Non mi piace Bene Faccio il possibile Giuro Allora Facci vedere il tempo Allora Allora La foto Questa che ci dà La nuvolosità Sull'Europa Non ne mostra Molta Sull'Italia Però sulla Francia C'è un po' di nuvolosità Anche verso le Baleari Potrebbe avvicinarsi Quindi Qualche copertura Potrebbe arrivare Però Se andiamo subito Alla carta successiva Cioè alle piogge Previste per oggi Vedete che non c'è Praticamente nulla Qualcosina Ma poco a poco Sulle zone alpine Sarà soprattutto Nel pomeriggio Poi la giornata di domani C'è molto più grigio Arrivano un po' più di nuvole Ma le piogge Vedete che restano Molto deboli Il verde Molto isolate Quindi giornata ancora Nel complesso Abbastanza buona Mercoledì C'era Previsto un cambiamento Ed è questo Che vedete in questa carta Le piogge al nord Soprattutto nord est Un po' verso la pianura Anche sul nord ovest Però È molto più limitato Di quello che sembrava Nei giorni precedenti L'Emilia Romagna Ne resta praticamente fuori Anche Piemonte meridionale Come vedete Insomma È un passaggio Abbastanza rapido E dico rapido Perché poi Se andiamo a vedere Anche La giornata Di giovedì Vedete che è passato tutto Restano debolissime piogge La carta successiva Parlando di temperature Ci dà la tendenza Delle temperature Fra oggi e domani Erano un po' scese A inizio del fine settimana La tendenza per domani Quel verde O addirittura il giallo Una punta di rosso Sulla Calabria Sono aumenti Previsti In qualche caso Anche di una certa consistenza Mentre sul resto del centro Al nord Le piccole oscillazioni Fisiologiche Quelle che ci sono Da un giorno all'altro E anche se è una previsione telefonica Anche se sono lontano Una foto Un pochino curiosa Ve la faccio vedere Ce l'ha mandata Fulvio Siamo a Trieste Un po' particolare Avevamo visto tempo fa Qualcosa di simile a Genova Quelle nuvole Che scendono Dai rilievi Che sembrano invadere Poi La città Ma scendono O salgono Ecco vi lascio Con questo Con questo interrogativo Se non avete nient'altro Da fare Va bene Ci arrovelleremo Caro Paolo Sottocorona Ci vediamo domattina Alla stessa ora Con Paolo Sottocorona Allora La domanda Che avevamo fatto A Alfio Marchini È Destra Sinistra Io sono autonomo Però questa è una cosa Che in qualche modo Rischia di non portare al risultato Che poi è il vero tema Non arrivare al ballottaggio E quindi non riuscire A fare la differenza E a prendersi Roma Lei aver visto come me Che Passera Ha fatto per esempio A Milano questa mossa Dicendo Mi ritiro Perché non voglio che vinca Sala Ma voglio dare una mano A Parisi E molti hanno detto Dovrebbe fare la stessa cosa Anche Marchini a Roma Che mi dice? Beh innanzitutto C'è una strada diversa Passera Bertolaso Si sono affacciati adesso A Milano a Roma Noi sono tre anni Che siamo a Roma Abbiamo un movimento Abbiamo migliaia di persone Abbiamo volontari Abbiamo 20 gruppi di studio Abbiamo Roma è una scelta di vita Vede Io non faccio politica Perché voglio avere la poltrona Se avessi voluto una poltrona Avrei contrattato Con tutti quanti Molto prima Avrei fatto tre anni fa Avrei fatto due anni fa Avrei fatto l'anno scorso Quando abbiamo andato a casa Marino Avrei fatto continuamente Per me Roma E' una scelta di vita Io ho deciso di impegnare I prossimi Nella mia vita Per questa città E dirò Anche come In che modo Sarà una notizia bomba Che darò All'ottimo labbate No scherzo perché Va bene invece Perché in tutta mia vita Noi da bravo ingegnere In ogni cosa che faccio Sempre un piano A B C D Però è importante questo Vede Il concetto del voto utile Che cos'è utile il voto? Escere Dare un voto Quando hanno fatto Quello che hanno votato Il PD E ci sono accorti Dopo due anni Che l'hanno mandato a casa Marino O forse invece Dare a qualcuno Che ha svelato Noi A Fittopoli Noi Svendopoli Noi abbiamo bloccato Una serie di cose Che non andavano fatte Secondo me questa E' la politica E' servizio Poi Siccome nessuno di noi È veletario In un quadro di realtà Vede le cose da fare Ma il tema vero Che se io fossi stato convinto Che qualcuno 5 Stelle Centrodestra Centrodestra Fossero stata Un'ipotesi Libre per i romani Che ci ascoltano Io Uno Non mi sarei candidato Due Avrei fatto un accordo Con loro La mia insistenza Su questa linea Di autonomia Perché io Come referente 130.000 persone Che mi hanno votato Sono loro Che sono i miei giudici Io sono loro Che devo guardare gli occhi E non è Che io posso sfilarmi Perché non ha senso Le dirò Che poi avrò una Marchini Se appunto Lei rimarrà comunque Candidato a tutti i costi Anche se i sondaggi Guardi io le dico Io ho detto In un'intervista L'ottimo Labbate Quando era Due domeniche fa Sì Domenica scorsa Sabato scorso Sabato scorso Io dissi Alla fine Nel cosiddetto Ex centrodestra Perché è evaporato Il centrodestra Così come è evaporato Il centrosinistra Sfatiamo questi viti Non esiste più nulla Massimo due Massimo due E così è E così sarà Giorgia Meloni E lei? Così è E così sarà Aspetti un po' E poi vedremo Ma guardi E non prendi il suo suspense E così Uno dei due Allora facciamo un'altra domanda Vediamo se riusciamo Ma io non credo Questo interessa Alla signora Non è che ci interessa Io le posso dire Sicuramente Che non resteranno Più di due persone Ed è importante Con questo Chiudo questo argomento Perché parliamo Delle cose che interessano I gini romani Perché questa Un'opera Surreale Ma la gente Con questo gioco Fatto ad arte Non si parla Delle proposte Quindi chi No Scusi Oggi Noi Oggi Buon pomeriggio Presentiamo Il nostro programma Siamo gli unici Che abbiamo un programma Per questa città A 5 più 5 anni In piano industriale Gli altri Ancora neanche L'hanno fatto Ci discute Solo solamente Di cose astratte Di chi è il vantaggio Di chi non ha contenuto Di chi non ha proposto Per questa città Allora Entriamo I piedi nel piatto Delle cose concrete Se ho capito bene Tommaso Maiuta Non ha smentito Né che si possa Ritirare Né che rimarrà L'uno dei due Ci rimarranno Due candidati Restiamo in campo Perché la lista Marchini È una cosa Per Roma E non ha nessuna Intenzione Di appoggiare Chi che sia Punto Comunque No E a Fio Marchini Rimarrà candidato Sindaco La lista Marchini Può confluire Io voglio parlare Di cose concrete Arriviamo Alle cose concrete Evidentemente Un punto politico C'è Perché noi viviamo Diciamo Senza prenderci Troppo in giro Il governo Renzi Vive un momento Di crisi Diciamo Incredibile I sondaggi Fotografati Ieri D'Accori E della Sere Repubblica Lo davano Diciamo In una crisi Di credibilità Da un lato Addirittura Sconfitto Le politiche Con il 5 Stelle Dall'altro Quindi con un fronte Moderato Compatto Ci Diciamo Appresterebbe L'Italia Si starebbe Apprestando Diciamo A una grande Trionfo Eccetera Quindi penso Che nella logica Delle cose Sia che alla fine Questo groviglio Così tormentato Si riduca Diciamo Quanto meno Si alleggerisce Però si deve ridurre E sintesi Nella questione di merito Perché ci sono Dei criteri basici Perché il criterio Qual è? Il criterio Prima bisogna capire Qual è la piattaforma Delle cose da fare Se si è d'accordo Su quello Dopo si può Raccini Ha un punto di credibilità Come dire Se Marchini Anni fa La mia è che è incredibile Che nel PD Nel centrodestra Pensavo di usare Marchini Perché secondo me Era la soluzione Sono troppo libero Però è successo così Quindi No ma lui Ha un punto di credibilità Perché parliamoci chiaro Se lui avesse fatto La campagna elettorale Alla Rospero 5-4 anni fa Il miliardario americano Che si candidava Sempre alle elezioni Presidenziali E dopo un giorno Si fosse data la macchia Il fenomeno Lui si è messo a fare Lui invece Purtroppo Il consiglio comunale È stata la 26esima Per far cadere Marino Partiamo da una strada Meravigliosa di Roma Una strada storica Una strada amatissima Che è via Margutta Forse avete visto Che a via Margutta C'è un episodio Abbastanza incredibile Due giovani ragazzi Hanno fatto sesso per strada Guardate Ci troviamo in via Margutta Storica via nel cuore di Roma Legata al mondo dell'arte Qui ci sono molti pittori Ci ha vissuto Federico Fellini È legata anche al cinema È stato girato qui Vacanze romane Ma alcune sere fa Chi passeggiava in questa via Ha assistito a ben altre scene Questa volta Luci Rosse Due giovani Sono stati immortalati Dai passanti Mentre facevano sesso Seminudi Sdraiati nel bel mezzo Della centralissima strada romana C'è un'aria Che scende dal pincio Che fa essere i Marguttiani Un po' tutti matti Quindi possono succedere Le cose più strane Però sei il luogo Che porta a fare certe cose Ah è la via che fa queste feste Allora devo passarci di sera Certo la via è di quelle importanti E note in tutto il mondo Al civico 110 Abitavano Federico Fellini E la moglie Giulietta Masina Poco più avanti Umberto Mastroianni Scultore E zio di Marcello E ancora qui Lo studio della pittrice Novella Parigini Stando qui da piccolissima E li vedevo passare sempre Poi noi in galleria Abbiamo lavorato molto Con Umberto Mastroianni Che era lo zio di Marcello C'era una certa familiarità Se così la vogliamo chiamare I residenti O quelli che qui hanno bottega Come i tanti pittori e artigiani Ricordano con nostalgia Una via che era d'arte Di cui ora ne denunciano il degrado Di cui l'episodio dell'altra sera È solo l'ultima goccia Come è mai successo Una cosa del genere Come fanno Poi nudi Nudi Quindi Ma vuol dire che Non veniamo salvaguardati Non c'è l'illuminazione Noi Vent'anni Venticinque anni fa Riuscimmo a farci aumentare La luce dalla CEA Ma Per uno strano motivo Dopo Circa Venti giorni Furono riabbassate le luci Era zona pedonale Non poteva entrare nessuno Non ci poteva stare nessuno Con le macchine In otto giorni È stata modificata La delibera Poi è stata rimessa In un altro modo E queste sono Le cose strane Che accadono a via Margutta Vedete macchine parcheggiate In mezzo alla strada Dovrebbe essere un'isola pedonale Non lo è E questo non va bene Per non parlare poi Del solito problema Con la spazzatura Non le sembra un po' degradante In una via come questa Insomma Qualcosa che il nuovo sindaco Dovrà fare per via Margutta? Ma io Mi auguro che rivaluti L'aspetto delle mostre Di via Margutta Amiamo via Margutta Difendiamo via Margutta Amiamo gli artisti Allora naturalmente È un piccolo caso Marchini Però ci parla di quello Di vent'ata Roma No? I libriachi Che a mezzanotte Di sabato Girano in mutande Per le strade del centro I tifosi olandesi Che trasformano La piazza di Spagna In un bel spaziano E adesso il sesso On the road Cioè l'idea è che questa città Ha perso del coro e dignità? Innanzitutto sicuramente sì Ecco devo dire che Via Margutta Hanno questi problemi Lo so perché Tra l'altro io spesso sono lì Però Però I veri problemi Sono nelle periferie Cioè è vero che Via Margutta È poco illuminata Ma comunque è una strada Che ancora Ha una sua dignità Le vada A Tor Sapienza Vada a Tor Bellamonaca Dove un autista dell'Atax Se ha una macchina in fronte Suona Quello scende e gli mena Cioè il vero dramma È nelle periferie Allora gli dico sicuramente Queste sono cose importanti Giuste Tra l'altro è successo Io ero proprio Da quelle parti Quando è accaduto questo Ti ha visto i due? No non l'ho visto Non ho avuto la gioia Di confrontare questa roba qua Però il tema Via è un altro Vede E questa città Sta perdendo tutto Cioè è un lento E inesorabile Inabbissamento Verso Un fondo che non si vede ancora Allora Il tema qual è? E perché tutto questo capita? Abbiamo due problemi Sicurezza Noi abbiamo fatto un disegno di legge Presentato in Senato Che rintroduce Primo Sicurezza partecipata Che vuol dire? Vuol dire che I cittadini Devono poter partecipare Al comitato della sicurezza Dell'ordine pubblico Perché? Perché Abbiamo reclutato un problema Dall'altra parte uguale A San Vigile Un problema dello spazio E quindi devono partecipare Secondo Rintrodurre alcuni reati Che sono Accattonaggio Ronvistaggio Decoro Cioè vanno penalizzati Ma non perché dobbiamo essere Dei bacchettoni Perché dobbiamo restituire Una serie di norme Che vanno rispettate profondamente Quindi tolleranza a zero Come dice Bertolaso Ma però Sì lo dice Ma deve essere fatto Le regole si sono Vanno applicate Esempio Io trovo che sia importante Quello che è stato fatto Per il Giubileo Meno 30% Negli ultimi 4 mesi Di reati Perché? Perché abbiamo messo L'esercito A presidio Di alcuni luoghi fissi La polizia Gira di più E quindi i reati scendono Aumentiamo questi luoghi E facciamo un diverso Le faccio vedere Vediamo il cuore di Marchini Partiamo dal cuore Scusatemi Perché Questo bellissimo cuore Che Marchini usa Come brand La sua campagna elettorale Mi hanno fatto notare Sotto il web In realtà Che è La mappa di Roma Però con la Roma Quella del centro C'è Piazza Navona Ma questa è una mappa antica Allora c'era solo questo Quindi è una delle prime Questa è la prima mappa Fatta a Roma Allora noi vogliamo capire Se lei Oltre ad avere nel cuore Quel pezzo di Roma Che è il centro Nel centro Ha nel cuore anche il resto Vediamo una mappa In cui Ecco Questa è la mappa Dei municipi romani Io le chiedo due Voglio che lei Mi indichi Su questa mappa Facciamo un giochino Dov'è Tor Sapienza E a che municipio A partire Io non saprei farlo Lo ammetto fin d'ora Vediamo se Marchini Anche perché adesso Gli hanno cambiato Gli hanno messi insieme È nel quinto È nel quinto Sì E diciamo È tutto Quella zona che è Tor Sapienza Centoselle Che è una tra l'altro Dove Lei non so se se lo ricorda Dove ci fu tutta Quella rivolta Per i residenti Quando Gli ho chiesto per quello Perché è una zona In quella zona C'è un'idea Di c'è una vecchia scuola Si chiama Elio Vittorini Mi sembra che sono 2500 Ma riquadrati Coperti 5000 Che è abbandonata Allora Esempio lì Fa che non facciamo Delle cose concrete E facciamo un esempio Quanti sono oggi I padri separati Che non possono Tenere i figli Perché non sanno dove andare Allora Quanti sono i giovani Che oggi spendono 500 euro In nero Che è un'altra follia Che c'è a Roma Per poter studiare Avere una camera Veniamo a quel luogo Ristrutturiamolo In quel quartiere Diamo la possibilità Al padre Che non sa dove andare Con il figlio E fine settimana Che possa restare lì Un paio di giorni Al giovane Che deve studiare Lo stesso Cioè Consumo di suolo Si Zero Ma recupero Dell'esistente Io sono andato Ma l'altro giorno Tra l'altro Sono stato invitato A mangiare Un aglio E peperoncino Da un certo Sandro Che tra l'altro Saluto Ma che è stato Lo sapienza Penso che è il caso Tra l'altro Io gli avevo detto Vieni Poi c'è Ma la moglie Che c'è un problema Anzi Ti faccio anche In bocca al lupo Ma lì Ci sono delle donne Che ti fermano E dicono Io non posso Minare per strada Perché i campi nomidi Che stanno lì intorno Vengono completamente Aggrediti Non è possibile Il campo nomidi Anche là Io non sono maraccista Però tu vieni in Italia Se vieni in Italia Con il presupposto Di delinquere Per cui ti attrecci Per fare il riciclaggio Clandestino Dei rifiuti Non va bene Te lo chiuderebbe Il campo nomidi Ma assolutamente Ma assolutamente No no Lì non c'è Ce ne sono un paio Uno deve essere assalviati Poi c'è un altro a fianco Il tema vero È che lì Non può andare avanti così Per cui là Sono dei luoghi Dentro Ci sono delle famiglie Di nomidi Diciamo Che hanno intestate Mille Duemila macchine Questo non ha senso Allora io dico Vieni in Italia Perfetto Ti do sei mesi Ti trovi un tuo alloggio Rispetti delle regole Se no te ne torni a casa Perché noi non possiamo Più tollerare Che in questa città Si venga col presupposto Di delinquere Il vero problema Che a Roma oggi Non conviene essere onesti Non va bene Se c'è Roma Con questo tipo di lavoro Se c'è un'intestate Mille e due mila macchine Con redditometro alla mano Non penso che abbiano Più soldi Per pagare i tasse Esatto Ma sai che fanno Che loro cosa fanno Gli vengono Sequestramo la macchina Siccome non hanno Dove metterne nel deposito Gli viene fatti Il riaffido Quindi la verità Che queste persone Si conoscono Allora il tamero Ma perché questo sistema Di legalità continua A Roma è tutto già noto Peccato che non si è rinunio Bravo Ma perché Quando poi dopo Vedi che vanno A fare malefile Alle primarie E voti Forse qualcosa capisci C'è un rischio Il linguaggio Di queste ultime due cose Perché sia quella Di padri separati Che è una cosa Che non so se l'avete notato Ma è Salvini Cita sempre In ogni posizione E noi campi Rom Ovviamente Se Salvini Fosse in ascolto In questo momento Secondo me Marchini Viagerebbe molto di più Di quanto Secondo me Vi piaceva già da prima Sì è la Meloni Che non lo voleva Così mi raccontano Volevo chiedere una cosa A Marchini Se il tema Della sicurezza Partecipata Di cui parlavo prima Di cui lei parlava prima Può vagamente Assomigliare A quelle che una volta Si chiamavano Le ronde No sono due Allora pubblicità E poi risponde No Adesso devo andare di gustare Allora sicurezza Condivida sono le ronde Chiedeva Tommaso Labbate Prima la leggo Marchini si ritira Lui non smentisce Io cambierei il titolo Non ci penso proprio Ecco Quindi lei non si ritira Ma no ma ovvio Ma l'ho detto Ma ovvio Quello che farò sicuramente Spiegherò direttamente Alle altre componenti Che non si riconoscono Nel PD Nel Movimento 5 Stelle Dove presentare il nostro programma oggi Perché quel programma È quello giusto E perché serve una discontinuità E serve che la società civile Ossigeni la politica Nessuno Dei partiti attuali Che hanno cogestito È a sinistra È anche a destra È vero Ma quando Bertolaso Che è il sindacato Scusi il sindacato Che è il sindaco Indicato da Berlusconi Bertolaso Dice Le colpe del dissesso In questa città Sono sia del centro-destra Sia del centro-sinistra Ma come si può credere Ancora che il centro-destra Lo faccia Quando è il candidato Di Berlusconi A farlo Mi hai avuti a fare il titolo Marchini si ritira Non ci penso proprio Non ci penso proprio Restorò sindaco Fino alla fine Non ci penso proprio Ancora Romano Secondo me canta bene Detto poi invece Andando al tema Del discorso Che mi ha fatto Malabate Ovviamente poi Siccome sono una persona Ma responsabile Voglio bene Dei romani Nei prossimi giorni Io incontrerò Berlusconi Lameloni Tutti quanti Ma ovvio che sì Ma questo perché Ma non perché Deba fare delle alleanze Ma perché Giustamente Il mio dovere Presentare un progetto Che noi oggi presentiamo Una stampa estera Alle tre È un piano industriale A dieci anni di cose concrete Cento punti da fare Ma l'obiettivo è cominciare a stare con lei? No Io presenterò questo programma Serio per dire Questa è l'idea Questo è il nostro progetto Questo funziona Poi ognuno si assume La propria responsabilità E vale Che le fa un roccio politico Va a spiegare il suo progetto Raccontando La luce del sole Non c'erano più Di questi accordi Sotto banche Ma che non si fanno Questo senso Che la gente Che ci ascolta Pensate che ci sia qualcosa sotto Che mi dai Che te no Voglio che state testimoni Poi da casa Marchini ha promesso A me e alla base Che verrà nei prossimi giorni A darci una notizia O qui O al Corriere Ma comunque con noi due Con nessun altro Notizia importante Va bene Grazie Andando al corso Della sicurezza Chiudo A 20 secondi però Al volo Non è un tema di ronde A parte che già ci sono Dei cittadini Ma i cittadini Devono tornare protagonisti Cioè Quello che vive A San Basilio Il problema è dello spazio Chi vive a Via Amargutta Un altro problema Dobbiamo calibrare Ebbene Sui cittadini Che sono il centro Devo chiudere Sono in ritardo Grazie a Fio Marchini Nessun masolabate Pubblicità Telegiornale Grazie